Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Stasera l'accesso da parte pubblica sarà consentito con mascherina e nei limiti delle normative vigenti in tema di distanziamento sociale e di rete di assembramento. La seduta sarà a un video registrata e domani sarà resa accessibile la registrazione. L'unica cosa che chiedo al pubblico è di ritirare gli ordini del giorno quando poi andranno via, di portarli via e chiedo la cortesia di mantenere il più possibile il distanziamento tra una persona e l'altra in base a come sono stati già disposti dagli uffici i posti assegnati. Andiamo a più al Consiglio Comunale convocato per questa sera e passo la parola al Segretario Comunale perché proceda con l'appello. Buonasera benvenuti, procedo con l'appello. Buonasera benvenuti, procedo con l'appello. Micheloni Simona, Barrofio Marco, Carlesso Paolo, Loni Mort, Ratter, Guaglianne Claudia, Pasolino Federico. Comunico al Consiglio Comunale che sono stati invitati a partecipare alla sede di oggi, esenti dall'articolo 25 del Regolamento Comunale, la dottoressa Anna Ronchi dell'azienda speciale Confertilia Mediolona e il dottor Cisvento responsabile del settore gestione risorse dell'eventuale supporto agli argomenti di rispettiva competenza. Come già discusso con i capi gruppo consigliari, in quanti punti interessati hanno carattere di urgenza per scadenze di legge e attività tecniche connesse, propongo in senso dell'articolo 27 del Regolamento del Consiglio Comunale di modificare l'ordine di trattazione dei punti scritti all'ordine del gioco, e in particolare di trattare i punti 23, 24, 25 e 26 dopo il punto 4. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per la sede di mano per lo spostamento della trattazione dei punti dal numero 23 al numero 26, subito dopo il punto numero 4. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? E i consiglieri assenuti? Un assenuto. Quindi, con numero 15 voti favorevoli, con 0 voti contrari e con 1 assenuto, i punti 23, 24, 25 e 26 sono trattati dopo il punto numero 4. Pertanto tratteremo i punti dal 1 al 4, poi i punti dal numero 23 al numero 26, che diventano 5, 6, 7, 8, e successivamente proseguiremo con i punti dal 5, che diventa il 9, i nuovi. Passiamo quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno e qui l'approvazione dei verbali della seduta consigliare del 28 maggio 2020, atto dal numero 12 al numero 17. Con nota patocollo comunale, numero 10.454 del 23 giugno 2020, i verbali della seduta consigliare del 28 maggio 2020 sono stati trasmesse che ai gruppi consigliari. Se nessun consigliere ha dato l'osservazione, può passare alla votazione per l'approvazione. Ok. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare la pranzata di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? E i consiglieri assenti? Nessun. Passiamo quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco. Do la parola al sindaco, Maria Catelli, perché proceda e via comunicazioni. Buonasera a tutti. Con decreto numero 9 del 29 maggio 2020, modificato il decreto di nomina dei componenti della giunta comunale come segue. Signor Gabriele Moltrasi, vice sindaco, con deliche, servizi sociali, segreteria, protocollo e archivio, servizi demografici. Signora Elena Correo, politiche educative, pari opportunità. Signor Falsolossi, manutenzione di tutela ambientale e commercio. Signora Claudia Baggerone, eventi, sport e tempo libero, politiche giovanili, biblioteca. Signor Luigi Enrico Rosa, fiancio, protettorato, promato, contratti, giunti, geas, lavori pubblici. Ho riservato la mia diretta competenza e materi, personale, cultura, comunicazione e informatizzazione, urbani, sicurezza, indirizia privata, corpo di polizia locale, protezione civile, SUAP. Con la delibera di giunta 61, nel 11 giugno 2020, siamo nominati come componente della commissione urbanistica designata dalla maggioranza, l'architetto Alberto Levia, che è stata ricostituita la commissione urbanistica come segue. Componente di diritto, sindaco, suo delegato di funzione di Presidente, assistore dell'urbanistica, assessore dell'uomo pubblico, responsabile del servizio urbanistico e di inizio suo delegato, l'architetto dell'ufficio. Componenti proposti dalla maggioranza, l'architetto Alberto Levia, l'architetto Roussela Mombele, l'architetto Stefano Codale, l'architetto Marco Guadagnolo, l'architetto Elisabetta Luari, componente proposti dall'ignoranza, l'architetto Patrizia Canavesi, l'architetto Patrizio Lorusso, Geometra Sivente Pecana. Con decreto 10 del 1-6-2020, nominato il dottor Pasquale Pelaggio, tuttornale della sede convenzionata di segreteria generale, di classe seconda fascia rica ai comuni di Fagnanova e la banda maggiore, e cambiato dal 4-1-2020, configurata a Triennale, forse a mezza di 3-1-2023, con il capo convenzione del comune di Fagnanova. Con decreto 12 del 10-1-2020, nominato il signor Natalino Muraschi, quale componente della CIVIA della Sede Unito Infantile, scuola materna di Piazza Curio, di sostituzione della signora Natalizia Sozzi dal 30-1-2020. Con decreto 14 del 19-1-2020, ho modificato il decreto 23 del 3 settembre 2019, di nomina della Commissione Consigliare Permanente, bilancio, finanzi e programazioni, nominato il consigliere comunale, signor Federico Fazzolino, come componente di membro effettivo della Commissione stessa per il gruppo Fatteli d'Italia. Poi volevo fare altre due comunicazioni. Una riguarda molte segnalazioni che abbiamo avuto dai cittadini della zona delle Fornaci fino al confine sia di Cassano ma anche cittadini di Cassano e cittadini anche di Cainati in merito a pizze molto fastidiose e permanenti nelle notti fino all'altra sera. Ci siamo solito attivati invitando i presidenti, le amministrazioni delegati e i proprietari delle principali aziende che operano alle Fornaci per degli incontri in comune per cercare di capire quale possa essere il problema. sono subito tutti resi disponibili con due aziende che abbiamo fatto l'incontro. Una terza azienda verrà incontrata domani e domani attiveremo anche con l'ufficio l'arpa proprio su segnalazione del comune raccogliendo le istanze dei cittadini e ho comunque sentito sia il sindaco di Cassano sia il sindaco di Cairate per cercare di venire a capo della questione. probabilmente non sarà immediata la risoluzione ma cerchiamo di capire come poter evitare in futuro episodi di questo genere. Ieri la situazione sembrava migliorata però stiamo a vedere anche in questi giorni teniamolo in interlata la situazione. Poi vogliamo fare un'altra comunicazione. in data 11 giugno Gersk mi ha comunicato pari del protocollo a metto di sindaco un bel pari di contestazione illecito amministrativo contestato alla Gersk della Guardia di Finanza compagnie di Gallarate in data 29 maggio. Nella stessa comunicazione l'azienda comunica che la contestazione è solo oggetto di trattazioni nel prossimo CTA che si è convocato per domani e che Gersk con unicamente a Cassano Magnacolo servizi spari Cassano Magnacolo e Mediotech di Nutella che è formato del protocollo contestato sta disponendo di corso alla Camera Commission di Valese per chiedere l'aggiornamento della stazione. Bene, allora. Sì, volevo solo intervenire dicendo che stasera purtroppo ancora si è manifestato questo problema e che secondo me è che il lavoro con il comunimento si diventa fondamentale perché non è possibile ovviamente capire dal lavoro e da dove si fa l'entrata. Sì, allora, noi a parte di conti con le aziende il passaggio fondamentale sarà sicuramente con ARPA perché i cittadini possono segnalare se arrivano segnalazioni dai comuni rafforzano, diciamo, speriamo che rafforzino la posizione. Bene, passiamo a trattare il terzo punto all'ordine del giorno delle sanzioni e interessi nel caso di versamento dell'appunto entro il 30 settembre 2020 limitatamente ai contribuenti che versano incontrolate situazioni di difficoltà economiche. Ad esclusione, quella porta in un'incompetenza statale relativa agli modi di uso produttivo classificati nel gruppo catastale di raggiunta o ceduto all'adozione in questa determinazione e si chiede la ratifica da parte del Consiglio Comunale come la normativa. Bene, consiglieri, io voglio fare qualche osservazione in merito. No? Sì, prego, consiglieri di grado. Sì, voglio dire che clinicamente con il tipo di tecnologo, non facciamo i bravi. è stato, è allegato anche la proposta di delibere a un modello che sarà sostanzialmente una classificazione che dovrà essere allegato al, diciamo, al lato del posto, della contoluzione. Quindi, con la proposta di delibere qual sarà il peso? Sopra il quale, sotto il quale ci sarà un po' economico? Il modello è allegato la proposta di delibere ed è stato dimostrato anche l'incomissione. Comunque, se vuoi, è più ormettura, è arrivati. Allora, sostanzialmente il cittadino del Bungi Pagnano ha testa di trovarsi in una situazione di difficoltà economica determinata dalla pandemia, anche oggi il 19. Aver perso il lavoro, essere stato posto in cassa integrazione, mancato rinnovo di contratto a tempo determinato, allegare il contratto scaduto, averlo costruito di buone spese per genere ambientale di cui all'ordinanza 658 2020 produzione civile, o anche altre situazioni di cui attesta il cittadino. Per quanto riguarda invece le persone giuridiche, perché comunque si fa riferimento anche a questo, ma era allegato, di essere stato costretto dai provvedimenti governativi alla chiusura, che abbia chiuso l'attività economica, che non abbia chiuso l'attività, ma deve stare in un caso di infatturato, o comunque che l'azienda si trova in condizioni di difficoltà economica. Quindi una di queste condizioni è una condizione necessaria e sufficiente per la... Sì. Ok. Altri interventi? Ok. Allora, se nessun consigliere ha da fare altre affermazioni, possiamo pertanto procedere alla votazione. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? E i consiglieri? Allora, è una deliberazione immediatamente esecutiva, pertanto occorre procedere alla seconda votazione con immediata esecutività, che dovremmo tanti signori consiglieri li attivo dare per la prima. I consiglieri favorevoli? I contrari? E le asseguiti? Passiamo via a trattare il quarto punto d'ordine al giorno, la tipica variazione di bilancio urgente approvata con deliberazione di giunta comunale numero 64 del 15 giugno 2020. Passo la parola all'assessore Roto Guigino che procede in strada dell'argomento. Sì, grazie Presidente. Allora, questa invece è la tipica di variazione urgente e poi allegativa all'attivazione dei centri stili e progetti finalizzati e organizzati in socialità di gioco del territorio 2 di Tarniano Roma. Io mi limito a quei che sono i contenuti, diciamo, di natura contabile, poi se eventualmente i consiglieri vorranno fare anche per altre richieste, ci sono presenti gli assessori. Soltantemente, per quanto riguarda la questione contabile, si paga per uno spiegno di spesa di 70.000 euro di cui l'alzino speciale con sottile e migliorno a servizio della persona trasferisce al comune di Fagnano la somma di 38.000 euro. Per la quota di differenza, il comune ha deliberato le azioni di bilancio commentate troppie. Salventi. Prego, Mazzigliere Garezzo. Vorrei chiedere, visto che non è chiara, almeno per la stampa, l'importo totale messo a disposizione su questo progetto, la conferma dei 70.000 euro, ovvero il 38 è messo a disposizione dall'azienda di Valle, il 32 del comune e il 27, credo, dello Stato. Vanno sommati oppure sono una parte che va a compensare quei diversi del comune? la risposta se volete c'è il vice-sindaco Frasi che interviene. Ok. Prego. Grazie, aspettavo il microfono. Calcoli che noi abbiamo fatto inizialmente per sottolineare alla necessità di supportare le famiglie sono stati fatti con i porti che all'epoca erano sicuramente a disposizione perciò 38.000 euro dell'azienda borsettile e poi il comune è venuto di dover raggiungere per garantire la apertura a tutti i bambini per la settimana per tutte le settimane di apertura che i centri che stimavano i centri e si avrebbero avrebbero gestito. Solo successivamente si è concretizzata quell'ipotesi che però non era ancora sulla carta confermata di questi 26-27.000 euro legati all'articolo 105 che effettivamente si sono concretizzati pochi giorni fa e quindi anche questi si aiuteranno e avranno in qualche modo ad essere sfruttate le famiglie. Però ci sono anni di sì e abbiamo avuto conferma un momento successivo alla deliberazione della regolazione per me. La mia domanda è semplice vorrei che vorrei una risposta precisa cioè vanno sommati e quindi a 70 più 26 oppure tolti a 32 messe di posizione del Comune. Allora in riferimento a questo punto all'ordine del giorno chiaramente non sono contentati perché si sono aggiunti dopo in riferimento all'attività generale del Comune vanno sommati perché chiaramente come ho detto devono essere a disposizione delle famiglie per quell'anno. Quindi l'impegno di stella a modera ha 96.000 euro giusto? Così come stanno sono 96.000 euro e confermare questo a quello che si si anche perché comunque l'articolo 105 è datato il 19 maggio 2020 maggio ma la termina è di 11 giugno l'articolo inviene perché viene di maggio del 19 maggio ma la conferma che quei forni sarebbe sicuramente arrivati a un tempo utile come noi abbiamo avuto in sé comunque non è libera con l'articolo è libera scusate bene altri carretti sì ci saranno altre cose da dire anche la ventilazione di prego sostanzialmente faccio rilevare che c'è il DPCM il 17 maggio 2020 che promuoveva l'istituzione di centri estivi il DL per il 19 maggio 2020 nel quale si finanziava i centri estivi poi sono tutte richiamate nella verità raggiunta sempre il 17 maggio l'ordinanza di l'ombardia il 29 maggio il centro di l'ombardia e scusate il DPCM prevedeva che la partenza dei centri estivi dovesse essere il 15 giugno 2020 15 giugno 2020 esatto sono importanti noi abbiamo questa delibera di giugno data 15 giugno 2020 chi vuole rispondere ok regolino regolio siamo in quindi il comune di Paniamo abbiamo visto che l'arrivo notevolmente il ritacco rispetto a il panorama degli altri comuni non solo della l'arrivo non solo della l'arrivo essendo a tutti che è con l'unico prego signorio per la risposta buonasera a tutti allora per quanto riguarda mi sento proprio di difendere questo aspetto per quanto riguarda la partenza dei centri estivi i comuni di Paniamo Romana sia in maniera precisa e alla lettera a quello che è stata la decisione presa dall'azienda di L'Union Roma quindi i comuni non è partito quando c'erano tutti i parametri per poterlo fare in totale sicurezza seguendo tutte le procedure richieste e soprattutto quando gli enti gestori si sono presentati con un progetto serio e valido hanno detto che siamo abili e arrolati per poter ridare la nostra risposta se qualche altro ente gestore nel nostro territorio che fa parte del comune dell'azienda di Lurona è partito prima e glielo confermo che è vero qualcuno è partito prima lo ha fatto in qualche maniera da solitario perché aveva i mezzi che aveva le spalle aveva delle ragazzezioni pro giovani che non potevano fare sopportare perché negli anni precedenti lo aveva già fatto al di là del covid e altre cose quindi noi come comuni siamo partiti è vero il 29 giugno con tanti attività con tanti centri estivi anche se il 29 giugno qualcun altro sul territorio è partito una settimana prima ma non ci sentiamo di essere arritati ci sentiamo più che altro di essere preparati e pronti a presentare quei progetti validi e soprattutto che coprono un lasso di tempo molto importante che è tutto il mese di luglio e la prima settimana di agosto una piccola fase nel mese di agosto e poi la riapertura nelle penultime due settimane di agosto in atti di settembre quindi secondo me i progetti che abbiamo presentato sono molto interessanti che secondo me possono sicuramente superire a tante difficoltà delle famiglie italiane e anche le miglior nuove io propongo di trattare l'argomento visto che abbiamo delle interrogazioni precise e poi c'è un cittadino io le provo di fare come vuole subito dopo però se ci dedichiamo a questo perché adesso l'argomento è un altro invece anche una domanda se tu non puoi fare l'argomento che cosa chiedo non so se la risposta abbastanza l'ospiro del consigliere Carlezzo avevo un'altra domanda su questi fondi ok se a fine del progetto quindi a settembre non venissero spesi i fondi stanziati cioè i 96.000 euro cosa succede di questi di questi importi quando si verificherà questa presidenza quando teneremo al momento a nostro avviso abbiamo caricato al meglio possibile i fondi necessari con le disposizioni poi fortunatamente un 20 si sono aggiunti questi 26.000 euro ma io penso che in ogni infermata il porto alle esigenze delle famiglie ce ne sono così tanti che la preoccupazione non è se quella di riuscire a spettare ma trovare i punti per i milioni per spettare di intercettare le nuove qualità che è la finalità poi investire di questi soldi si la mia domanda è che si aggiunge proprio la ruota di quella del consigliere carlesso perché anche questo volevo sapere se c'è una data di spedenza per l'ingegnere di spesa di 27.000 euro di solito i fondi pubblici hanno la data di spedenza non lo sapete non è relativa a questa alloghese del giorno di ero ripeto sono conti che sono arrivati adesso ma non lo valutando adesso va bene con Atena faremo le adeguate valutazioni comunicheremo anche i quali scatenzitamenti i quali dovrebbero essere utilizzati come detto sono fondi che la cui razza è intercettare di nuovo con la nuova povertà quindi fa da sé che i tempi sono comunque grazie a me che si deve essere preso in breve la realtà prego assessore la realtà sì grazie signore vogliamo dire che siccome diciamo il programma ha comunque un'altra relazione di bilancio dentro il 30 di luglio in quella sede verranno caricati queste somme che ci vengono stanziate e nel frattempo voglio dire che rispetto anche ad altre diciamo esigenze che possono nascere dal periodo di crisi l'amministrazione sta valutando anche delle altre aree di intervento di cui potremmo pagare la commissione non possibile comunale quindi penso tanto con il sindaco abbiamo richiesto una proiezione a Geas per quanto riguarda la tassa rifiuti con uno sconto del 25% sia per quanto riguarda la porta variare che per quanto riguarda la porta fissa per le utenze non domestiche e che per noi un vero è di come 110 mila e questo da un conteggio di partenza e stiamo valutando anche invece per quanto riguarda le utenze domestiche qualcosa a livello di volentazione per i cittadini che hanno già usufruito dei bonus sconti vari in maniera tale da avere comunque una casistica definita quindi stiamo lavorando anche su altre soluzioni però devo dire che i 27 mila euro stanziati dello Stato sono finalizzati alla formazione dei centri estivi quindi non si possono integrare l'amministrazione non si possono quindi facili di consultare da qualche altra parte se non per fare dei centri autunnali ma i 38 mila euro messi dall'azienda di valle che poi sono comunque dei fondi nel contrasto al covid e fondo povertà quelli sono comunque stati messi nel fondo aperto del comune di Paniano sui centri estivi ritorneranno spesso se non vengono utilizzati nella disponibilità dell'azienda di valle che poi deciderà come utilizzarli immagino cioè non solo nella disponibilità del comune di Paniano se non per fare c'è i testivi ok prego un piccolo qualcosa che magari può aiutare a cominciare a capire come volevamo utilizzare questi 27 mila euro è un accenno quindi ritorneremo su questo tema in maniera più approfondita però è giusto che magari iniziamo a darne così idee generative si sta pensando a utilizzare questi 27 mila euro dando la possibilità per le famiglie che si sono che hanno iscritti i propri figli all'inizio fuori dell'azienda di Donona quindi presso centri che non sono accadutati con il comune in questo caso di Paniano e poter dare anche a loro un contributo economico che decideremo a giorni quanto a settimana per facilità come sono i contributi attualmente in essere per gli altri successivi per cui già stiamo pensando a questo quindi lavoreremo sui 27 mila euro comunque per tutti gli stili che non sono accreditati ma che possono andare mi fa piacere perché è un'interno per la prima sì sì ma glielo confermo che sarà non siamo pronti a dirle le facce non siamo pronti a dirle per quanti nuclei per quante persone ma li confermo che sarà sicuramente utilizzato con priorità per queste famiglie altri interventi ok bene allora chiedo pertanto i consiglieri di votare la manzata di mano i consiglieri favorevoli i consiglieri contrari e i consiglieri asseguiti uno allora stiamo andando la deliberazione immediatamente eseguitiva occorre procedere alla seconda votazione dell'idea di eseguitività in realtà i consiglieri consiglieri di votare la passata di mano i consiglieri favorevoli i contrari e gli asseguiti passiamo passiamo subito quindi a portare all'esame quinto punto dell'ordine del giorno articolo 41 comune legge 27 12 97 numero 449 in situazione comitati commissioni consigli di ogni altro o di una collegiale con funzione amministrative a riservi indispensabili per la realizzazione dei istituzionali del comune passo la parola all'assessore Montasi Gabriele che proceda di messare l'argomento allora è necessario procedere anche per l'anno in corso al nono adegutti per una riconosizione dei comitati delle commissioni che si gioca i collegiali che vogliono funzioni amministrative che sono ritenuti indispensabili per la realizzazione degli istituzionali del comune il consiglio va in questo modo a deliberare l'articolazione che avevamo già provato l'anno scorso e per trasparenza e concretezza le modifiche che avevamo portato erano conseguenti avevamo deciso di appogliere il suggerimento di integrare e di accorpare le commissioni pari comunità e affari sociali creando la nuova commissione per l'inclusione perché ci è ritenuto che il tempo fosse assolutamente attivo e che fosse il tuo tipo far lavorare insieme i rappresentanti interessati da questi aspetti SEME invece è deciso di tenere separate le commissioni per l'attività culturali del tempo libero e politico e giovanili e la commissione per l'attività sportiva e questo perché i soggetti interlocutori e i soggetti coinvolti erano una platea molto ampia molto diversificati erano le tematiche e quindi si è ritenuto di non mettere che soffa per un po' che gli stegni avrebbero separato vi leggo l'evento completo in quella dell'articolazione che vedremo delle commissioni commissione urbanistica commissione per il paesaggio commissione comitato di coordinamento Pris e di Olona commissione comunale per la formazione e l'aggiornamento degli altri permanenti dei giudici popolari di corte d'assise e di corte d'assise d'appello commissione del litorale comunale commissione comunale di originanza di locali di pubblico spettacolo commissione affari istituzionali commissione ecologia commissione per l'attuazione del diritto allo studio commissione comunale per la sicurezza e l'ordine pubblico commissione consigliare rilancio finanze e programmazione commissione comunale valori pubblici commissione mensa commissione per l'inclusione commissione per le attività culturali deponito delle politiche giovanili commissione per le attività sportive prego grazie signor Presidente grazie assessore buonasera a tutti dunque questo è un punto che normalmente si vota a favore e voteremo a favore anche quest'anno per mantenere le commissioni però visto che mi ha acceso la domanda citando le commissioni esprimo qui un parere che ho espresso anche in sede di Capirupo riguardo a alcune o meglio a una commissione che viene citata ovvero quella degli affari istituzionali perché la cito? perché secondo me andrebbe rivisto all'interno della commissione affari istituzionali la composizione della commissione stessa mi spiego meglio la commissione affari istituzionali è quella commissione che va a trattare tutti quelli che sono i regolamenti delle commissioni regolamenti comunali il regolamento del consiglio comunale e addirittura voce in capitolo e studio e sistemazione dello statuto comunale in questa commissione al giorno d'oggi c'è un rappresentante solo del consiglio comunale che se non erro è il consigliere Peterico Padolino dopodiché sappiamo tutti che il parere della commissione non è comunque un parere nicolato ma può essere modificato dal consiglio comunale stesso ora essendo comunque materia molto importante ciò che va a trattare questa commissione io mi sento di proporre sì di lasciare all'interno fatemi passare il termine per farmi intendere i membri laici chiamiamoli così della commissione ma sarebbe opportuno a mio avviso inserire all'interno della commissione stessa anche qualche consigliere comunale in più magari rappresentante di ogni gruppo del consiglio comunale questo perché primo perché è un'ottima scuola far parte della commissione preistituzionale della possibilità di studiare apprendere modificare tutti quelli che sono i regolamenti del consiglio comunale e secondo luogo perché appunto va a trattare quegli argomenti in molti casi che sono interesse primo luogo dei consiglieri comunali quando parliamo del regolamento del consiglio comunale modifica del regolamento del consiglio comunale capite che a fine è vero che è sempre il consiglio comunale a deliberare una modifica ma questo viene modificato da persone che in gran parte non sono presenti all'interno del consiglio comunale quindi questa è una proposta che faccio adesso a voce probabilmente presenterò una mozione in un prossimo consiglio comunale per modifica anche per poi per andare a trovare quegli aspetti ed è un tema ascoltante che tutti gli anni da almeno sei anni a questa parte si tiene poi c'è il regolamento sul ciclo di emergenza altri interventi bene allora chiedo pertanto di votare per la sala di mano i consiglieri favorevoli i consiglieri contrari e i consiglieri assenuti passiamo passiamo con i consiglieri a trattare il senso punto d'ordine del giorno aspettamento all'azienda speciale servizi comunale in Gea che dei servizi chimideriali e dei servizi di servizio passo la parola all'assessore Rosa perché procede a giustare il argomento prego grazie presidente sì in sostanza è dato a scambienza il contratto del presidente contraente per quanto riguarda l'abitamento dei servizi e l'amministrazione ritiene nel voto anche di una valorizzazione di la presenza di Gea sul territorio di utilizzare la società controllata di società speciale allora quindi dal 1 luglio alla società Gea viene affidata la gestione dei servizi ciliteriali secondo i termini che sono poi allegati alla delibera c'è una relazione del nostro settore lavoro pubblici dal fatto riguarda il tecnico economico finanziario e poi c'è anche il contratto di servizio le prestazioni previste sono quelle elencate quindi punizia generale del cimitero punizia di dialetti punizia di serbi taglio del guerra svoltamento di tutte le ceste di vita della porta di tutti punizia della con i contenitori raccolta con lecoltani punizia disinfezione servizi igienici canale montuaglie stesura sare o anaudo prodotto sbombano neve taglio erba raccolta foglie controllo delle malerbe del verde rivelami chiamano delle forze informazioni assistenza a tutte le operazioni di innovazione insomma informazione eccetera controllo accessi insieme di raccolta fissone manifesti assicurare lo svolgimento dei servizi cimiteriali e penso a tutte queste operazioni per fare questo l'azienda garantirà la presenza di personale adeguatamente istruito tutti i giorni con esclusione diciamo dalle ore 7 alle ore 20 è prevista durante il periodo dei defunti la presenza di una persona dalle 7 alle 20 e invece nei giorni normali secondo l'orario annumare per la cimiteria insomma è allegato appunto il contratto di servizio è allegazione il parere il parere tecnico il parere dei genitori e il parere di una cosa contabile prego dire da adesso lei ha detto che il contratto è andato in scadenza con il precedente gestore con la scadenza allora si è valutato con con la gesto siccome la gesto aveva intenzione comunque di ricevere dal contratto di partire da subito teoricamente sarebbe dato in scadenza il 31 di luglio mentre noi abbiamo sostanzialmente fatto partire l'intervento di Gias dal primo di luglio c'è da domani da domani sì esatto scusi è domani giusto? sì la nostra decisione è già stata presa a prescindere da quello che evidenzerà la decisione del Consiglio quindi dobbiamo sviluppare il ruolo del Consiglio Comunale allora la verità è comunque stata già presentata in commissione e il contratto parte domani sì è stata presentata in commissione beh non vorrei rivagare la questione che abbiamo già ampiamente trattato in commissione bilancio la commissione è stata comunque convocata venerdì scorso per lunedì scorso senza le motivazioni a mio avviso necessarie di giurgetta ora ci portate una approvazione di questa cosa per un contratto che parte domani a mio avviso e a consigliere il ruolo che questo consiglio ha se qualcuno può dirmi qualcosa riguardo si è una roccia che vuole la casaria si ma se deve pensare il primo attraverso se il consiglio votasse contro domani chi farà il servizio al cinque uno vuole rispondere al consigliere carlesso se no do la parola al consigliere parlo io prego assessore rosa il contratto parte da domani noi abbiamo sentito la disponibilità di Giasca e abbiamo sottoposto questa delibera all'approvazione del consiglio comunale questo per noi quindi questa è una decisione dell'amministrazione prego consigliere il Giasca per quanto riguarda la gestione di questo servizio questo consiglio comunale ha ruolo di decidere sì no astenersi prego consigliere parlo ok grazie no perché la regolarità è perché questa consigliere di franzi una domanda e qualcuno mi giocca e la vedrà la risposta comunque io non mi giocco la risposta non volevo non volevo dare la risposta posso dire la compagnia era già certo il sì sì la cosa io semplicemente non volevo dare il diritto di parola non volevo dare la risposta però questo per dire che questo punto all'ordine di un giorno è molto interessante prima di tutto perché perché noi andiamo ad affidare la gestione del cilichero alla Giasca e quindi la Giasca prende in mano un altro servizio e io di buon e male è giusto secondo me darla un po' più di valore che di lavoro alla Giasca poi viene la questione di rispetto perché rispettiamo quello che che Giasca deve fare e quel tipo di ambito è il cilitero il capo santo poi viene la questione del principio politico la questione del principio politico che porta il mio gruppo a votare la stessione perché quello che ha detto il consigliere che andasse stasera è sacro santo almeno fate finta nel senso io so che voi avete i punti per portare avanti e a casa una decisione che voi prendete ma il consiglio comunale non è che si ragioni in questo modo noi siamo semplici compazze non siamo seduti qui perché ci piace di stare seduti qui siamo qui perché vogliamo portare il nostro contributo è vero a volte saremo anche più troppo polemici non lo mettiamo ma detto questo è una questione di principio un punto sui giovani noi avremmo voluto votare a favore perché avremmo votare a favore ma non ci sentiamo di votare a favore di fronte abbiamo una decisione di questo genere un contratto che inizia domani mattina e tanto voglio dire abbiamo una maggioranza bassa e sì grazie ma non è così che ci si comporta ok mi permetti ok però nessun consiglia da fare altre osservazioni passiamo costanto procedere alla zada alla posizione chiedo per tante signori consiglieri di usare la zada di mano e consiglieri famo l'epo i i i consiglieri contrari e i consiglieri astenuti cinque la zada di direzione immediatamente eseguitiva pertanto ora procedere alla seconda votazione per la vita di eseguitività chiedo per tanti signori consiglieri dovranno attivare la zada di mano i favorevoli i contrari e gli astenuti esami d'approvazione di bilancio consentito della zada speciale consortia Mediolona servizio alla persona esercizio 2019 presente la dottoressa Ronchi che vedete dai banchi del consiglio comunale e do la parola all'assessore che abbiamo dimostrati perché poi c'è da dimostrare l'argomento un attività ringraziamo come amministrazione la direttrice tutta la stessa Anna Ronchi che è sacrificata come previsto dall'articolo 25 del regolamento del consiglio comunale al fine di poter permette a questo consiglio di approfondire con i maggiori livelli di dettaglio possibile la piattazione in questo punto come sapete e anche a fronte del fatto che in passato questa tipologia di partecipazione è stata condivisa anche dalle minoranze abbiamo anticipato i punti anche per evitare di tenere impegnata più del dovuto nel primo punto andiamo a che coinvolge in realtà la partecipazione della direttivice tutoressa andiamo ad approvare ad esaminare ad approvare il bilancio costruttivo dell'azienda speciale consortire meglio la servizio alla persona per l'anno 2019 come sapete l'azienda speciale permette al comune di Pagnanolona di erogare in concerto con gli altri comuni della valle che si trova a Stellanza con la minore con la maggiore ma non anche l'azienda di Orona e il solvio di Orona servizi che i comuni con le sole forze avrebbero difficoltà ad offrire alla cittadinanza con un tale livello di qualità appunto fornisce tutta una serie di servizi e appogitato appunto della dimensione dell'ambito di valle i comuni possono beneficiare anche di economie riscate lascerei la parola alla dottoressa finché possa appunto definire il quadro generale e poi eventualmente la parola del consiglio di prego prego grazie 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 e diciamo che quello che mi vado a illustrare questa sera è fondamentalmente un lavoro che ho fatto prima persona da me che io ovviamente ho elitato e poi ho fatto l'acquisizione dell'informazione che mi permettono poi di entrare nel mio ruolo di direzione appunto da Europa a questa parte il bilancio 2019 è stato già presentato durante l'assemblea consottile il 12 giugno scorso che è stato approvato all'unità adesso viene illustrato come dire perché anche voi lo possiate acquisire in particolare se ci sono chiesti che il vostro comune ha offerito all'azienda sono ovviamente le stifizioni nell'anno 2019 l'azienda speciale Medioruna è costituita appunto dai sette comuni dell'anno del nostro amico di Castellanza ha gestito un volume potremmo dire di risorse pari a 2.950 in quello di un'area per CCH a fase 3.2.000 queste risorse si possono suddividere in due tipologie da una parte ci sono i servizi che i comuni hanno conferito tramite i contratti di servizio per la gestione appunto di servizi che come veniva ricordato precedentemente non riescono ad essere gestiti e perlomeno garantiscono se gestiti in forma associata un efficientamento delle risorse e anche una omogeneizzazione e uniformità delle prestazioni quindi sono servizi rivolte ai minori agli anziani agli disabili che appunto vengono erogati sotto forma di appalti quindi l'azienda insieme una personale che gestisce i servizi e che vengono erogati nei confronti della cittadinanza dei comuni tramite appunto gli investitori appalti e accreditamenti a seconda della tipologia di servizio l'altra tipologia di formi gestiti è quella invece dei fondi sociali quindi l'azienda la ruota svolge dei fondi e strumentare dei comuni svolge loro anche l'etica profida per più di zona un esempio è un fondo di città di precedenza per i centri di schiena proprio fondo nazionale politico e sociali fondo di povertà fondo sociale regionale fondi per il protegimento dell'emergenza migrativa dopo di noi tutti questi come dire queste risorse che la regione lo caldiamo e che poi l'attesa gestisce attraverso l'ufficio di piano quindi diciamo che i 3.020 euro nel 2019 sono stati e sono quindi suddivisi dal punto di vista delle entrate quindi le fonti finanziarie in queste due proleggie per quanto riguarda i servizi poi sono le leccati negli allegati che sono stati distribuiti gli allegati prevedono chiaramente la comunicazione di legge quindi il bilancio la moda alternativa la gestione gestionale la tenda ricordiamo è un'azienda pubblica ha totale partecipazione pubblica ma ha un bilancio più privato quindi il bilancio viene gestito sotto forma di contabilità privata quindi attraverso lo stato patrimoniale e tutto economico e tutti i documenti che ci sono in realtà arrivano i documenti più interessanti sono sicuramente quelli negati che hanno i servizi nel loro dettaglio quindi sono state riportate le schede analitiche servizio per servizio con l'implicazione appunto dei costi sostenuti nell'anno 2019 i relativi ricambi sui fondi di finanziamento e la differenza che è sempre riportata tra il consultivo e il preventivo anche se l'azienda appunto ha la contabilità privata viene redatta comunque un bilancio preventivo e poi gli associativi di finanziamento nel bilancio che è un po' come anche il comune e l'analisi del discorso a dentro il preventivo consultivo chiaramente è un'attività che viene svolta all'interno della del sicuretore generale giusto per darvi un dato tra il preventivo 2019 e il consultivo sono stati registrati minimi costi per circa 40.000 euro questi minimi costi sono legati in particolar modo al costo del produttore che è rimasto in carica fino a settembre 2019 e poi non è stato individuato fino a frutto alla data di maggio scorso altri risparmi sono stati e gli evitano da scelte parte sulla gestione del personale in particolar modo se più su tutte la minore è stato internalizzato a partire da settembre e sono stati assunti dipendenti che prima invece facevano attraverso una cooperativa questi 40.000 euro di risparmi sono stati come dire sottratti alle poche capitane che i comuni versano e verseranno per il 2020 fino a prima salvo 2019 sarà una preguitazione di quanto al comune che era chiesto la lune il comune di Fagnano partecipa alla vita assemblea diciamo così dell'azienda più di 18,54% quindi è il comune che ha un'oggi per centuale per centuale per centuale per centuale partecipazione la percentuale viene calcolata dal statuto è tramite i tre criteri che è un po' fissa la tua possibilità interna questo volume gestito come di Fagnano nel 2019 ha versato un attributo per i servizi per la gestione appunto dei fondi per la struttura aziendale su 450 mila euro 790 euro di gestione quindi su questo volume gestito è stato coltato il conteggio e anche proprio le quote assembleanti dal 2020 sono quelle elevate in tutta l'azienda ci sono richiesti di chiarimenti sui servizi in altri medici lo prego grazie presidente e grazie dottoressa innanzitutto auguri di buon lavoro perché appena hai cominciato e giusto augurarne un ottimo svolgimento del compito nella nostra azienda di Valle quindi due incoghi uno all'azienda di Valle che è un'azienda che in questi anni si è resa fondamentale per la gestione di tutti quei servizi di cui il nostro comune come appunto è stato appena ricordato sfrutta in origine il secondo incoglio va all'ufficio servizi sociali del comune di Pagnano che sfrutta e lavora in sinergia con l'azienda di Valle e questo è importante è importante perché se non ci fosse questa sinergia tra le due parti probabilmente noi non riusciremo a sfruttare a pieno totalmente le energie che arrivano da questa azienda tanto noi non possiamo essere soddisfatti di questo punto votare a favore del bilancio costitivo non ho particolari domande da fare la dottoressa e non mi intenzione te li ha anche perché penso che in questo periodo si è facendo tutti i consigli al primo abbiamo un onore di lavorare questo tour dei consigli comunali e fatti bene di noi niente il nostro voto è favorevole prego consigliere il mio no volevo invece capire due cose allora la prima è perché c'è questo aumento importante del esercizio eccessivo e il secondo è perché la curiosità e risconti passivide del esercizio la prima domanda la prima domanda è l'aumento di diritti d'assi formatori perché aumenta di 200 mila euro e quindi da 2 euro e risconti e la vocera te risconti in particolare perché rispondi passivi cioè chi ci fa dirattico allora rispetto ai debiti io sono chiaramente confrontati questi miei rispondi perché è un bilancio che non ha gestito niente una persona allora rispetto ai debiti è un discorso di tipo finanziario nel senso che a fine anno anche nell'anzitamento che ha fatto che il personale amministrativo era particolarmente careniche e è stato potenziato dai primi iniziali con due scolocioni la risposta è molto banale c'era una serie di passività accumulate che non venivano non venivano fatte a fonte da una parte del discorso della liquidità che comunque in queste aziende è sempre abbastanza critico proprio perché dipende da trasferimenti in città non può essere monitorato in modo che è così costato ma può essere invece in altre realtà che hanno anche magari trasferimenti dai cittadini quindi come dire da dettagli certe perché i tempi si vede una cosa adesso non sono semplici e l'altro è veramente molto molto concreto almeno da quello che mi è stato rincontato fino a febbraio per due eventi personale di amministratura molto grande comunque è un vero discorso di lavoro che è stato portato poi avanti successivamente se nel bilancio dei eventi probabilmente l'anno prossimo vedrà ci sarà una riduzione dei dati che adesso l'abito esiste questi valori sono molto puntuali quindi stiamo facendo fronte alle passività del tempo di legge quindi per la giornata fattura comunque 60 diciamo massimo e sicuramente nel bilancio di questo valore anche delle le ragioni sono molto concrete e molto più pratiche per quanto riguarda i risconti di passivi contingenti sì sì molto contingenti ma davvero motivazioni particolari ma ce ne sono la identità e la persona che fisicamente faceva fronte a queste condenze i fondi passivi sono legati a una struttura di bilancia politica di bilanci di dati che riguardano dei ricavi che sono stati incastati ma che poi la manifestazione è una fatta piena l'anze certo che ne farei forse i fondi sono fondi il fondo su Cisture, quindi si è un po' di capire chi ci deve fare di tema, se lo si deve fare. Sicuramente è la regione dello Stato, Cisture, lo sa, in Comunia, quindi viene formulato per competenza, non parlo da dire molto bene, è la regione di Stato, a volte ero bravo davvero attaccato a Vecchia, dicembre, però gli interventi vengono poi esportati al nostro cittivo, quindi il capo viene trasportato insieme anche ai suoi vecchi costi. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Capozzo. Voglio fare anche un applauso alla decisione presa dall'azienda di strutturarsi in maniera più solida, finalmente, perché la situazione mi risultava, perché c'è quello che ha detto la dottoressa, abbastanza critica, da parecchi mesi a questa fase, grazie. è sempre stata un po' critica e fortunatamente si è preso questa decisione che risulta ancora più fortuna per affrontare l'impegiatore futuro, immagino. quindi anche il mio gruppo approverà il bilancio. Grazie. 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 che è stato fatto appunto al nostro inverno, ha portato alla posizione anche da questi fiori a punto economico e quindi ha portato a questo aumento del fatturato che è comunque significativo. Quindi diciamo che per il 2020 l'azienda speciale di Piorra si trova un gruppo di 3.825 di lei che vuole ingestire. Un aumento significativo che invece è legato effettivamente all'attività, quindi ai servizi, è quello dei servizi scolastici che da un 1.078 sono passati a 1.091 sono passati a 1.378 in quanto è stato fatto un nuovo appalto dei servizi con l'allargamento anche al Comune di Castellanza che appunto a quanto io avevo in notizia non aveva partecipato precedentemente all'appalto, ora ha partecipato e quindi ha creandato chiaramente il volume rischio. Per quanto riguarda il resto c'è un sostanziale dell'allargamento. Chiaramente è sempre sentito il costume direttore che però era sempre sentito da marzo e in realtà non ha corretto da partire da maggio, anche qui in pieno Covid e non era stato molto possibile cambiare lavoro a marzo, quindi non avremmo stato molto specificato di due mesi. Per il resto fondamentalmente le cifre richiamano continuazioni del 2019 proprio perché i fondi del Covid non sono stati inseriti in quanto il bilancio era stato chiuso precedente. Per quanto riguarda poi il 2021-2022 chiaramente che sono il valore semplice di proforma, in cui tutti i bilanci triennali anche in Altena e non lo dirige del piano triennale riportando i valori a meno di variazioni significative che non è già note in questo momento. E per quanto riguarda invece il piano programma diciamo che il Consiglio d'Amministrazione ha redatto il documento sulla scorta appunto degli obiettivi che l'Amministra vorrebbe posti nell'anno 2020. Quindi sicuramente lo sviluppo dei servizi in essere, l'attenzione agli appalti in scadenza, infatti ora abbiamo un appalto per essere tutti lavorativi in scadenza settembre che non avrà preso in mano, il potenziamento della struttura che credo è importantissimo soprattutto per far fronte a questi sogni legati alle necessità appunto l'emergenza sanitaria, ma anche comunque legate alle misure come il reddito di cittadinanza, il REI, tutte queste misure legate alle incommissioni che necessitano anche di persone che però se no tratta soltanto di adorare i conseguiti ma anche di gestire proprio l'utenza delle persone. E quindi l'intenzione è quella proprio di andare a strutturare maggiormente l'azienda anche dal punto di vista proprio della gestione del personale. Poi ci sono tutta una serie di elementi che era più chiaramente l'azienda chiamata a far fronte, anche molto gestionali, però con cui ormai non si possono più rimandare. Quindi il 2020 risulta proprio un lato molto strategico. Se voi vedete l'organigramma ci sono tantissimi servizi e tantissime figure. In questo momento l'azienda è più di dipendenti, più di direttore e i dipendenti sono praticamente due amministrativi, il resto le persone tutte la minore e una persona sull'ufficio di piano. E' necessitato sicuramente per un volume del genere che l'azienda si strutturi in forma migliore. Per il resto mi rimetto a voi. Se ci sono delle domande rispetto ai singoli servizi, ai comuni, anche. Per quello che posso, penso che sono tutti i più per te che mi sono trovata, però comunque la mia conoscenza del settore e delle aziende speciali, chiaramente, ci sono dei più disponibili, insomma. Prego, consigliere Moretti. Grazie, buonasera dottoressa. Benvenuta. Le dico la verità, mi ha schiazzato. Mi ha schiazzato perché mi ero preparato una domanda molto semplice, che comunque la faccio lo stesso e dopo le scrivo perché mi ha schiazzato. La domanda era che rispetto a questo bilancio quali erano le variazioni pensate rispetto al bilancio, rispetto al programma preventivo per il 2020 legate all'emergenza Covid-19. la verità ci dice che è un programma chiuso a febbraio, giusto? Chiuso praticamente a febbraio formalmente a giugno e quindi manca un pezzo enorme. Quindi la mia domanda cambia ed è un po' così cosa stiamo approvando? Cioè stiamo approvando qualcosa solo formalmente, giusto? Perché poi insulterà, presumo, una serie di grandi variazioni. Ma rispondo. Allora, grandi, non troppo. Nel senso che i fondi stanziati, come voi vedete tutta la parte dei fondi, non è assolutamente cambiata, anzi è magari intensificata. Il Fondo Nazionale di Comunità Sociale è il fondo classico per la gestione dei servizi sociali, che tra l'altro è un fondo in istinto, quindi non è un fondo piccolato ma permette di utilizzare per supportare il personale e sostenere progetti. È stato incrementato per 103 mila euro per la fonda Covid, che è stata condestinata ai comuni per il discorso centesimi. quindi questo è un esempio. Altri fondi specifici per il Covid, all'unico, è quella di quello dei servizi e ad altri dettagli ai comuni. C'è stato l'altro, che era quello relativo al buono in spesa, ma per il resto, diciamo, che sono stati fatti soltanto delle riprogettazioni di fondi già erogati. Per esempio, il fondo povertà, per cui 100 mila euro si è deciso di destinare al centro estivi, sta all'insieme con le loro derogazioni già, a certo punto, tra l'altro, che portava la collega prima, già avvenuta incassati sotto forma di rispetto. Certo, la parte dei servizi spesi e i terrogi, come ho detto prima, farà un po' questo effetto, ma lo farà da una parte dall'altra, nel senso che la costantiva faturerà sicuramente meno perché non la svolge sia 20, sia 24 centri. In parte gli verranno conosciuti con questi fissi, questo era un po' il discorso che facevo prima della trattativa in essere con la cooperativa, nel senso dell'articolo 48, perché comunque la legge dice, nonostante in tutto, una quota va comunque riconosciuta a questi investitori. Quindi, nonostante abbiano sospeso alcuni servizi particolari per gli scolastici, mi verrà riconosciuta una quota di circa 1,60 euro all'ora, che poi da rifatturare i comuni. Quindi, da una parte, l'azienda riceverà fatture molto più basse dalla cooperativa, dall'altra, riceverà molto meno sui quali comuni, perché i servizi in questo genere funzionano proprio come una rifatturazione. Quindi, non è il contributo a quota capitalia che serve a fatturare l'azienda, sui servizi finanziamenti, spesso spazialmente da rifatturato fuori ai confronti dei comuni. Quindi, certo, grandi variazioni, lo vedremo, nel senso che per settembre-ottobre sicuramente è una delle cose più studi sono impegnate avanti una specie che le ha, a passare quella di portare un bilancio, un sottosformatico e costruttivo con le variazioni. Sicuramente queste variazioni saranno molto speculari, è entrata in uscita, quindi io non mi aspetto un esforzo, direi come una richiesta di smorso da parte dei comuni notevoli per il sostenimento dell'energia Covid. A meno che, ovviamente, poi nell'autunno non aveva qualcosa per nessuna logistica. Però, ecco, il bilancio era stato preparato a febbraio, era pronto per essere approvato, poi non era tutto... Infatti, ma la destabilizzazione è stata semplicemente legata praticamente chiusa a febbraio, formalmente, quando abbiamo letto chiuso a giugno, il pensiero è stato bellissimo, quindi hanno già un'ottica, siamo già pronti ad affrontare le problematiche che arriveranno da Ferragosto in poi, forse anche un po' prima, da un punto di vista legato ai servizi sociali, tutto qua. Per cui abbiamo un po' destabilizzato questo, non volevo entrare negli aspetti tecnici, erano proprio proprio negli aspetti organizzativi e politici, tutto qua. Grazie. Ok. Altri interventi? Bene. Ok. Prego. Quindi, lei che ha appena l'allata, che cosa ci viene dentro questa azienda per il futuro? Quali vision? Quello che ho detto, cioè, io vedo che l'azienda deve assolutamente strutturarsi. Cioè, io ho lavorato con due aziende speciali, tra l'altro molti più comuni, questa è quella nostra, e, vabbè, ovviamente la proporzione e la proporzione del futuro si cambia, ma, in rapporto a questa realtà, io comunque vedo un'azienda che si deve assolutamente strutturare dal gioco di vista delle figure chiave all'interno della struttura. La scelta del direttore part-time, io non ho detto, non ho detto perché non abbiamo propostato, però chiaramente implica tutta una serie di questioni che possono essere anche sotterite con l'individuazione di figure di responsabili del coordinatore in vita che continuano. quindi, come dire, sto calibrando questa cosa anche rispetto alle persone che poi dovranno lavorare insieme a me. Io ho i venti virtuali di figure proprio di coordinamento perché è importante che, come dire, un esempio molto concreto, le cooperative che gestiscono gli appalti in questo momento hanno come referenti i singoli comuni. Quindi l'azienda ha fatto l'appatto, paga le fatture, le rifà i comuni, ma, dal punto di vista tecnico, non entra nelle questioni. Lo fanno ancora i singoli comuni. Ecco, questa è una cosa che, in realtà, associata al governare un po' funzionale perché, innanzitutto, non si garantisce l'informità e l'onocenità, che è fondamentale e l'obiettivo e, come se vedete, si sgredono dei protocolli per dare il servizio più ognuno possibile. Poi, parliamo di servizi sociali, quindi, in postiglia, come dire, da tutta l'informità, perché sono servizi ad alcun impatto quali per tipo di unità, solo nelle aziende produttive. Però, è importante che i protocolli siano più costruiti oggetti. E questo lo si può fare solo con delle figure di coordinamento, aiutando associato, quindi alcune cooperative possano intercomprimere, possano avere degli scambi, degli scambi totali. Se è stata una superficie di piano, sulla parte della programmazione dei fondi, Cioè, io ho così bella cosa, appunto, che mi piacerebbe riuscire a dedicare a questo anno, le risorse per il tempo, ovviamente, è... E c'è un ambito in cui ritiene di avere altre risorse o fare altri pensieri. La risposta che vi ha dato è un tipo organizzativo strutturale, che poi, ovviamente, degli impatti hanno un impatto concreto. C'è un ambito che ci merita, vorre pensamento, ma vorremmo appunto pensamento, perché non mi sono pensato. Allora, io i servizi li ho conosciuti ancora poco adesso. Per me i servizi core ci sono, nel senso che, da tutti i latitori, la società domiciliare, i dati, i servizi a favore appunto delle persone bisognose, i migrati, i servizi, quelli basi di danni, secondo la tenta, ci sono. E' un po' sulla parte anche genituale, magari. Cioè, quella parte relativa al recrimento fondi, il fundraising, è diverso dai classici fondi sociali. Cioè, quel classico ufficio che ricerca i danni e manda all'application, e poi ci gestisce, che possono essere baggiati in giustizia dell'Unione Europea, dal Ministero, da qualsiasi ente superiore, su tanti, per tanti minori, piuttosto che, ultimamente, la conclusione va molto perché ci sono nuovi bisogni legati, per esempio, alla vendita del lavoro della casa. Quello, ecco, è sempre una... Io dico da un'azienda che aveva sviluppato questo servizio proprio con un personale dedicato, e, sopra, le persone devono essere quelle giuste, perché, se si mette in una persona a fare la recrimento dei suoi maschi che non è il suo, poi io non si trovo a menta alla fine. Però con le persone giuste, questo servizio è strategico, un po' perché dà appunto anche respiro alla scarsità di risorse tipiche che sono ormai sempre più frequenti perché i comuni hanno problemi che hanno... i fondi sociali sono sempre minori, perché io sono partita da... due, 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 sette, con una milionata di fondi, e adesso ci sono stati dei problemi. Quindi, comunque, avere qualche risorsa alternativa, considerate che da tutto un punto possiamo metterci sul mercato, quindi avere dei clienti un po' privato, è l'unico modo per, poi la terra che è diventato di fondi alternativi, quindi... è vero che davvero, è vero che assolutamente ci sono strutturasti, quindi prima di fare così, da nessun disinanzo, chiaramente. Non ci aspettavo la vostra ordine, che era immediata... Grazie. Grazie. Prego. Un certo tipo di partita di fondi, rispetto a quelli dopo. Purtroppo, le concetture economiche che sono succedute a quegli anni sono state un tantino pesanti e gravi, e hanno portato sicuramente a ordine il sostenimento dei fondi. Nella prima risposta che ha dato alla mia collega Michirona, parlando appunto del direttore a tempo part time, che non a tempo tutto, giustamente lei che è parte in causa, non si sente di dover dire qualcosa in quel punto. Giustamente, svolgendo un lavoro, l'azienda di Varbe non è il primo in un'azienda speciale, capisce la differenza tra l'essere impegnati a tempo pieno e l'essere impegnati a tempo part time. E quindi mi sento di fare io la dichiarazione in questo senso, perché dico a questo punto è una cosa della politica, ovvero se la politica potesse tramite... si chi si sono rosa con i soldi per l'avere consigliare. Allora, torno sul punto, dicevo se la politica può fare la sua parte, nel senso con i nostri riferenti all'interno dell'azienda e dire diamo fiducia e diamo operatività al 100% a un servizio di cui noi ne facciamo parte, di cui noi utilizziamo. Ed è una cosa che serve, che è necessaria, perché la politica fa questo nel suo compito e quindi lei giustamente non lo dice, lo dico io in quale parte politica, in quale consigliere, gli faccio il promotore di vedere di aumentare le ore di lavoro di direttore generale, che sa anche sicuramente, però che rende sicuramente ancora più meglio e più brillante la nostra domanda. Altri interventi? Prego, se per il contratto. Io, prima della votazione, ne voglio ringraziare nuovamente la dottoressa con più per la disponibilità a presenziare questa sera per il lavoro svolto in passato di cui comunque è rappresentante, ma soprattutto confidiamo in tutte le buone prospettive che ci ha delineato, soprattutto per il futuro, considerando che chiaramente i mesi che ci aspettano saranno mesi di riorganizzazione e di nuovi obiettivi e il risultato che l'azienda di Valdea sapeva poter accadere da un fatto fondamentale sulla vita dei cittadini, appunto, dell'ambito di Castellanza. La ringrazio. Grazie a voi. Siamo Aereo Marzanelli. Bene. Allora, chiedo ai signori consiglieri di dare a Marzanelli. i consiglieri favoressi, i consiglieri contrari e i consiglieri asseguti. Nessuno. Ringrazio anche io la dottoressa per la presenza e per la collaborazione per il contributo che fatevo stasera. Grazie. Buona serata. Buona serata. Passiamo quindi a trattare il nono punto, l'ordine del giorno. Ordine del giorno presentato dal gruppo nazionale di Sacirica Siamo Pagnani, dato 19.220, protocollo comunale numero 10.313, mentre progetto ordine del giorno contro qualsiasi tipo di discriminazione. Passo la parola al consigliere Barocchio che dia lettura dell'ordine del giorno. Allora, grazie signor Presidente. Regime della Repubblica Siamo Pagnani. Il Regime della Repubblica Siamo Pagnani. Il Regime della Repubblica Siamo Pagnani. Regime della Repubblica Siamo Pagnani. Il Regime della Repubblica Siamo Pagnani. 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 I figli e i piccoli vivranno un giorno in un'azione dove non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per ciò che la loro persona contiene. Io ho un sogno oggi. Ci auguriamo che il sogno di questo pastore diventi il nostro sogno. O meglio ancora lottiamo per che questo sogno si realizzi e che possa diventare una realtà a vantaggio delle prossime generazioni. Bene, allora, per avere la posizione raggiunta interviene il sindaco. Grazie Presidente, grazie Consigliere Maroffio. L'oggetto è, ognuno del giorno, contro qualsiasi tipo di discriminazione. Parlo con il sindaco, parlo a nome dei consiglieri di maggioranza. Siamo contro ogni forma di discriminazione, di razzismo e di violenza. Proprio per l'importanza del nome del giorno, raggiunto i consiglieri di maggioranza chiedono al gruppo Siamo Fagliano il ritiro dello stesso ordine del giorno per una condivisione e un rafforzamento del testo da punto di vista giuridico e sostanziale per il contributo di tutti i gruppi consigliari. Un testo più forte e incisivo che si fondi non solo sulla definizione di un addizionario settore autorevole, ma innanzitutto sul valore della nostra Costituzione, la nostra stella polare, chiara, fondante della nostra comunità, a cui tutti noi amministratori e cittadini facciamo riferimento e sulla dichiarazione universale dei diretti umani. L'8 giugno 2019, io come sindaco, oggi l'avamo giurato sulla Costituzione davanti a quest'aula. Tutti noi retti, consiglieri, ogni giorno svolgiamo il nostro compito sulla base di attacca costituzionale. L'articolo 3 della Costituzione, la formulazione dell'articolo 3 della Costituzione, che è chiaro, è stato scritto, i costituenti lo scrissero per condannare e rifiutare il mazzismo passato, il mazzismo presente, eventualmente futuro, per promettersi come italiani di non peccare mai più il mazzismo, per mettere fuori legge il mazzismo sotto qualsiasi forma. Così come l'articolo 2 della dichiarazione universale dei diritti umani, a loro che il libro spettano tutti i diritti, tutte le libertà indiciate nella dichiarazione senza distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica. Per questo, e siccome l'ordine del giorno nel nostro regolamento non prevede la possibilità di evitamenti, per questo chiediamo il ritiro per una riformulazione che va a rinforzare i principi che stanno alla base dello stesso ordine del giorno presentato dal regolamento consigliare e siamo fermati. Grazie. Allora, do la parola a ogni consigliere di ogni singolo gruppo. Regolamento sull'ordine del giorno, ogni gruppo può prendere la parola, nel suo caso il... Sì, mi faccio un'altra. E poi vedete voi sulla richiesta che ha fatto il sindaco di portare. Prego, consigliere Carlesio. Lì, però anche come l'ordinamento del comune abbiamo delle norme. Il gruppo consigliere Siamo Fagnano ha presentato questo ordine del giorno il 15 giugno, non si legge? Sì, 18, scusa. 19 giugno. 19 giugno. 19 giugno. Ricordo che noi gruppi di minoranza abbiamo il tempo prima della invocazione della Cate Gruppo per presentare tutti gli eventuali ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze, emozioni. Poi viene fatta una riunione della Cate Gruppo nella quale si può decidere, ed è la sede più opportuna per discutere un eventuale ritiro dell'ordine del giorno. E nella Cate Gruppo non è stato sollevato alcun problema di questo generale. perché allora sollevarlo in Consiglio Comunale quando dall'analisi degli ordini del giorno nella Cate Gruppo non è emerso alcun problema su questo ordine del giorno? Qualche risposta? Ok. Altri interventi? Non c'è risposta? Non c'è risposta? Non c'è un motivo. Possiamo poter dire che non c'è risposta alla mia domanda? Se non c'è un motivo. Prego, poterlo. Sì, su questo ordine del giorno, va bene, io penso che nessuno di noi abbia a che ridire, insomma, siamo, immagino tutti d'accordo, ma così non si fa capire anche la maggioranza. E sinceramente non bisogna neanche nulla incontrare rispetto alla richiesta fatta dal sindaco, nelle parole del sindaco, se non il fatto che purtroppo viene chiesto di ritirarla. fermo restando che rimandano all'interno tutte le prerogative che sono ben descritte in questo ordine del giorno. E' chiaro che se andiamo ad aggiungere dei riferimenti e delle attinenze con la Costituzione, mi pare un atto migliorativo. Spero che nel caso in cui si decida questo, rimandano tutte le richieste, tutte le generalità che sono state 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 in questo ordine del giorno. Prego, Consigliere Navarro. Buonasera, grazie e saluti a tutti i consiglieri e assessori del sindaco. Mi permetto di fare una piccola precisazione, un preciso subito che condivido quanto dichiarato dal nostro sindaco in ente a questa richiesta fatta dal consigliere Barocchio. Mi permettevo di aggiungere qualcosa di costruttivo, nel senso di proporre che siamo tutti a conoscenza di quelle che sono le dichiarazioni universali dei diritti umani, dove tutti gli esseri umani hanno gli stessi diritti e sono uguali per dignità, sono dotati di ragione e conoscenza e devono quindi agire come tutti gli altri nello spirito di frappellanza. In questi anni abbiamo assistito però a molte battaglie che hanno migliorato la situazione in tal senso anche se probabilmente molto c'è ancora da fare. Sono assolutamente contrari a ogni concetto di superiorità di razza, di discriminazione e di diversificazione dei diritti e siamo favorevoli anche nel nostro comune che si impegni concretamente a divulgare questi concetti che condividiamo senza un sé, senza un ma. credo però che con altrettanta forza, e questo dovrebbe essere, se il consigliere Barocchio voi nella rivalutazione dovranno accettarlo, dipenderà anche in considerazione questa piccola notazione, che chiediamo però per quanto riguarda la discriminazione, che con altrettanta forza sia sempre presa in massima attenzione e impegno affinché le basi della nostra cultura cattolica non siano immolate sull'altare dell'integrazione, che troppe volte si traduce nel migrare, o peggio ancora, nel nascondere i dettagli che sono da sempre alla base della nostra cultura, dando di fatto, conferma, sicuramente dietro queste situazioni, la volontà di un assalto alla civica occidentale, strumentalizzando e utilizzando argomenti necessariamente da condividere affini molto meno democratici, di fatto ricreando un potenziale razzismo in senso inverso. Questo io credo che in una valutazione potrebbe essere presa in considerazione nel migliorare questo discorso di discriminazione intesa a 360 gradi. Io sono favorevole per qualunque tipo di integrazione, però vorrei che vi venga sempre considerato e preso in visione anche il fatto che dobbiamo essere tutti, come è stato stabilito nella dichiarazione universale, tutti gli stessi diritti umani, anche noi, non sottometterci ad altri a colore degli altri. Qualche intervento? Prego, consigliere Parocchio. Prima di fare la replica, io sarei curioso di avere il parere anche degli altri due, qui un po' se è possibile. No, non peraltro, perché è giusto anche per un ragionamento che voglio fare, non è una questione di azzattone. Allora, per regola, per regolamento, se voi, se per me ci sono problemi, voglio fare l'intervento, che regola sarebbe per la posizione di giunta il sindaco o l'assessore e poi un elemento per ogni gruppo di maggioranza, cioè in questo caso ho sconsigliere una altra. Per il gruppo di maggioranza c'è un gruppo. Sì, infatti, abbiamo un'altra persona che se vuole puoi crescere, ovviamente. Non so se il gruppo di maggioranza, soprattutto perché manchi, vuole aggiungere qualcosa o qualche altro consigliere. No, non è vero. Prego, per il gruppo di maggioranza, prego. Io ripartisco con l'operetto del sindaco, anche c'è tutta la massima disponibilità di rivenerlo, ampliarlo con i fondamenti della Costituzione, non sono contraria a nulla, ci mancheremo. Benissimo. Posso? Io consiglierebbero anche. No, mi interessava sentire davvero un po' il parere di tutti, non era una questione di... per fare polemico o meno, anche perché non era mia intenzione farla con questo documento. Io personalmente non sono tanto intenzionato a ritirarlo, ma non peraltro. Ho già vissuto in questi anni il Consiglio Comunale la vicissitudine di alcuni ordini del giorno, uno dei quali io stesso, come il capogruppo allora, mi ero impegnato a modificarla. In quel caso era stata fatta addirittura l'approvazione dell'ordine del giorno portata e dopo c'era un impegno del capogruppo del Consiglio Comunale a modificarla. Io mi ero impegnato a modificare e avevo portato delle modifiche in un capogruppo dove era stata indetta e istituita apposta per valorizzare o aumentare questo tipo di ordine del giorno che era stato portato avanti. Mi riferisco a quello su gli estremi, mi sembra, che era stato portato dalla loro capogruppo per di maggioranza. Allora non se ne fece nulla, non se ne fece nulla non tanto perché non c'è fu l'accordo tra la maggioranza e le minoranze, ma perché non c'è fu l'accordo tra le minoranze stesse, in capogruppo. Per questo che non mi sento di dover ritirare il documento di me. Primo, perché non penso di dire nulla di così spiacevole all'interno di questo documento come appunto è stato detto dal sindaco. Secondo, sì, è vero, noi abbiamo il sindaco giurato che nel caso la Costituzione, noi, quello della prossima volta, ci siamo stati in piedi, come se avessimo giurato noi stessi, nella nostra Costituzione è ben inserita, è ben incardinata al suo interno l'interazione dei diritti civili dell'uomo. ma purtroppo, purtroppo, di questi fatti, lasciamo stare al discorso, io sono andato a prendere il discorso, chiamiamo, poi accendo quello delle manifestazioni in America, ma purtroppo di questi fatti, di questi tipi di discriminazioni, alla nostra nazione, purtroppo, ci sono. E dire che non ci sono, facciamo risulti che nascondono la testa sotto la santa. Ora, può sembrare per qualcuno inopportuno portare un documento del genere in un Consiglio Comunale, anche se gli ordini del giorno previsti nel regolamento e sono proprio per questi motivi. E io credo, siccome l'ho detto prima, io credo davvero che la politica possa fare la differenza in questo. Se io siedo qui oggi, siedo perché voglio portare il mio contributo nella modifica. Io spero, lo dico, un mondo migliore, non è la frase di Tramiss Italia, è la frase davvero di speranza che tutti noi dobbiamo avere. Pertanto, è vero, sarà una voce in mezzo a un oceano questa, sarà nulla, ma è il mio contributo, è il mio portare avanti un documento che ora voi mi veniate a chiederlo di dirarlo, è legittimo. Io ho sentito anche oggi, infatti ho fatto un altro gruppo perché non puoi parlare adesso, però mi ha chiamato per chiedergli questa cosa. Io ci ho ragionato un attimino, non è che dico un no a Prioni, ci mancherete. Però ripeto, è il mio contributo. Mi piacerebbe che il mio contributo fosse condiviso dal Consiglio Comunale. Se poi il Consiglio Comunale ritiene il secondo tempo di sviluppare un documento ancora più importante, ma io sono ben contento di partecipare, ma non me la sento di distrarlo. Grazie. Se forse, va a vedere. Allora, è una cosa velozissima. È velozissima, va bene. Allora, riguardo a questo documento, io lo trovo, nella sua semplicità, lineare. nel senso che ha due valenze. Una valenza scientifica e una valenza culturale. Cioè, quella scientifica è quella sull'esistente o meno delle razze. Vi riporto una domanda che è stata fatta a suo tempo da quante razze umane esistono? Una. Una. Quindi, questo ordine del giorno ha una valenza scientifica lineare. La valenza culturale è altrettanto lineare. A questa domanda quanti risponderebbero nella maniera corretta oggi giorno? Grazie. Allora, per correttezza, lo si dirà anche al consigliere e impegnarsi a diffondere i concetti di parità di diritti e di uguaglianza tra gli esseri umani, censurando forme di prevaricazione generate dall'infondato concetto di superiorità di talunni rispetto agli altri. Durante le nostre riunioni tutti noi ci siamo trovati d'accordo con i concetti espressi, concetti così importanti e sostanziali che abbiamo ritenuto che meritano di essere presentati attraverso un documento unico condiviso, firmato in rappresentanza di tutti, da tutti capire un po'. Per questo motivo abbiamo chiesto il ritiro di questo ordine del giorno, ritenendo opportuna la partecipazione di tutti nella stesura del documento affinché possa avere l'impatto giusto che questi così importanti argomenti meritano. a male in cuore siamo quindi a votare no con però il preciso intento di convocare una commissione composta dai capilupo così da redigere un documento più completo meno legati ai singoli fatti facilmente strumentalizzabili da poter in breve tempo proporre come atto di indirizzo comune a questo Consiglio. dal momento in cui dal momento in cui questo documento viene votato o se dovessi viene votato in un'unità questo non è il documento di parecola ottima è il documento del documento io dovrei chiedere semplicemente se hai intenzione di ritirare o almeno da un'unità stiamo andando troppo avanti con i conti interventi cioè quali sono le intenzioni del gruppo siamo pagnati o inerente all'ordine del giorno se siamo pagnati l'intenzione di ritirarlo è una decisione ovviamente che correttamente deve rendere il gruppo siamo pagnati in qualche sensore del punto dell'ordine del giorno stesso se no dobbiamo passare ovviamente purtroppo a votazione ok allora chiedo ai signori consiglieri ricordate ricordare l'alzata di mano i consiglieri favorevoli 6 i consiglieri contrari e i consiglieri astenuti bene passiamo quindi a trattare il decimo punto dell'ordine del giorno interrogazione presentata dal consigliere comunale Movimento 5 Stelle Fagnano Loma sì allora prima di passare alla lettura delle interrogazioni il gruppo siamo pagnano ha presentato un'interrogazione urgente ricordando i miasmi infazione e formaci ovviamente l'interrogazione viene accettata perché ci sono delle argomentazioni che per quanto anticipate dal sinno delle comunicazioni verranno ovviamente messe all'ordine del giorno in coda le altre interrogazioni come la regolamento ok e passiamo adesso a trattare il decimo punto dell'ordine del giorno che in prevenzione presentata dalla questione comunale Movimento 5 Stelle Walter Lomi data 15 maggio 2020 protocollo comunale 33 63 mentre l'oggetto fondo di solidarietà comunale risorse per solidarietà alimentare passo la parola a consigliere Lomi Walter che dia la lettura dell'interrogazione fondo di solidarietà comunale risorse per solidarietà alimentare permesso che in data 28 marzo 2020 il governo attraverso l'apposito di PCM è disposto al trasferimento di 4,3 miliardi di euro ai comuni anticipando il fondo di solidarietà comunale in data 29 marzo 2020 è stata emanata dalla protezione civile l'ordinanza 658 con la vacquare vengono attunti altri 400 milioni che saranno destinati in particolare ad aiutare i cittadini in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connessione insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili considerato che l'importo spettato da ciascun comune a titolo di contributo o rimorso della sfida sostenuto è predeterminato attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente di ciascun comune e della distanza tra il valore del resito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale in particolare le risorse per la solidarietà alimentare sono ripartite ai comuni secondo i seguiti criteri secondo i criteri del decreto rilevato che sulla base di quanto assegnato e eventuali donazioni ricevute ciascun comune in deroga al codice a parte di cui è autorizzata l'acquisizione di moni spesa utilizzabile dall'artista di genere in Italia presso esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale b di genere alimentare i prodotti di prima necessità è al presso disposto che per rassistere la distribuzione sui detti beni i comuni possano avvalersi del enti del terzo settore visto che al comune di Fania Nolone sono stati arrivati complessivi 66.259 euro a titolo di contributo come da opere dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile numero 659 per il marzo 2020 ulteriori perdenti urgenti di protezione civile in relazione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'intergenza di patologie derivati da agenti virali trasmissibili in allegato c'è un'estratura della tabella è compito dell'ufficio dei servizi sociali di alcun comune individuare la platena dei beneficiari indietro relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti e gli effetti economici derivati dall'emergenza di neologica Covid-19 e tra quelli il strato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già segnatati di sostegno di buone spese utilizzabili per l'ufficio di genere alimentare presso esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale di genere alimentare prodotti di prima necessità e anche si risposto che per l'ufficio e per la distribuzione sui detti beni i comuni possano valersi dei denti del terzo settore si interroga il sindaco per conoscere con quali criteri comuni di Fannino Polona ha individuato la platezza beneficiale del relativo contributo la montagna di buone spese già erogate eventualmente la montagna di quali residui con quali modalità si intenderà dare eventuali fondi di quali enti del terzo settore comune sia falso che si intenderà variarsi anche successivamente e con che modalità più in generale ma nel dettaglio il punto della situazione aggiornata ad oggi se sono in studio o ad un'amministrativa prevista direttamente intraprese dall'amministrazione comunale sono una cosa che anche questa è un'interrogazione che si è fatta in un tempo passato e che ci sono state delle evoluzioni però ho ritenuto di tenerla e di chiedere comunque dei chiarimenti più semplicemente per dare voce per dare spiegazioni che non sono state erogate come di questi punti grazie dalla parola alla signora puntata si dà la risposta ringrazio per l'interrogazione rispondo punto per punto con quali clienti il comune di Pagno-Molone hanno individuato la plazia dei beneficiari e del creativo contributo allora questi dati sono che lo dico pubblico comunque definiti dall'area di liberazione in particolare per poter partecipare al banco i requisiti o per poter partecipare a queste evoluzioni i requisiti e i seguenti la residenza o domicilio questo comune di Pagno-Molone alla data della domanda il possesso di Ise interiore a 30.000 euro il provarsi in una delle seguenti condizioni di emergenza per i lavoratori dipendenti la riduzione della risoluzione all'orda mensile pari o superiore al 20% per liberi professionisti o lavoratori autonomi una riduzione del proprio parturato in un trimestre successivo del 1.000 febbraio 2020 superiore al 33% del parturato per l'ultimo trimestre 2019 in alternativa una grave malattia o perdita di un familiare a causa di Covid-19 oppure un'altra tipologia da specificare nella domanda che in questo caso è stata valutata appunto dai servizi sociali per curare la coerenza con la razza o la sottostante appunto a questi iniziati quindi questi sono i requisiti a cui si aggiunge un fattore di priorità che è quello di dare priorità ai familiari non già per i vicari il sostegno pubblico perciò sostanzialmente l'idea è quella di andare ad intercettare la nuova povertà quella causata da inquietite situazioni di disagio economico e familiare causate dall'emergenza Covid questo perché chiaramente si predisponeva che situazioni pregresse fossero già correttamente intercettate dai servizi sociali eventualmente più o meno di situazioni comunque difficili pregresse aggravate aveva comunque l'opportunità di fare richiesta chiaramente si è dato priorità a chi chiaramente era rientrava appunto nell'ambito di questa nuova povertà che non fosse un soggetto effettivamente già sostenuto in altro modo dai servizi sociali o dagli enti terzi con i quali i servizi sociali collaborano l'ammontario totale è di 80.900 euro erogato con questa misura che ricordo essere una TACU non ci sono residui nel senso che edri così rispondono anche al successivo punto con quale modalità si intende erogare gli eventuali fondi residui non ci sono fondi residui d'altra parte non ci sono neppure richieste residui perciò da un certo punto di vista siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste pervenute ulteriori punti ovviamente nel caso di nuovi contributi statali si valuterà la possibilità di erogare chiaramente dei buoni però al momento c'è forse un'indicazione nel decreto di lancio ma nulla di concreto di quali enti del terzo settore comune sia a passo allora in primo luogo della Caritas e del pane di San Martino e colpo l'occasione peraltro per ringraziare i loro volontari del lavoro svolto in che modo diciamo che hanno intermediari proprio perché la situazione dei contingenti impediva lo spostamento delle persone alcune persone in particolare anche anziani erano anche vulnerabili e bello di salute quindi diciamo che il pane di San Martino e la Carita si sono risponibili nel in alcuni casi addirittura non soltanto a consegnare i buoni ma anche in alcuni casi ad essere loro stessi a farsi carica delle spese per chi avesse timore o difficoltà a ritarsi appunto negli esercizi convenzionali più in generale ma nel dettaglio il punto della situazione allora questo punto è un po' critico perché in generale ma nel dettaglio cerco di fare risposta nel miglior modo possibile allora 245 sono i nuclei ammessi di cui 154 avevano figli minori 6 la presenza di cari disabili 89 erano già 20 di misure di sostegno e quindi questi 89 sono evidentemente quelli che già in qualche modo aiutati dai servizi sociali hanno potuto dimostrare che era avuto un tetore al carico della propria situazione e questi rappresentano più di un terzo dei nuclei che in totale hanno fatto richiesta 126 sono i lavoratori in condizionale dei credi sono i lavoratori dipendenti 38 di autonomi con riduzione del fatturato oltre al 33% e poi uno ha chiesto facendo appello al decesso o malattia a causa covid e altri 80 anunni invece si sono appoggiati a cause di riduzione di vendito diverse specifiche che sono state valutate dai servizi sociali e i tempi idoni a ricevere i sostegni sull'ultima domanda se sono in studio altre iniziative qui vi ricollego un po' alla questione degli enti terzi l'obiettivo adesso è quello di assorbire le difficoltà residue perciò per le situazioni di difficoltà che non sono state solo emergenziali ma che purtroppo sono diventate almeno fino a questo momento croniche perciò chi non è riuscito a risolvere quella situazione di difficoltà l'obiettivo del Comune è quello di incanalare queste situazioni nella gestione ordinaria proprio perché questo mi interviene una tasca collegato a Conti Statali nel momento in cui non abbiamo certezza di ottenere Conti Statali la cosa migliore che possiamo fare anche per una questione di trasparenza e tracciabilità del servizio che vogliamo è utilizzare l'eventuale di portare i singoli nei canali che esistono ovviamente per quanto possibile cercheremo di valorizzare e appoggiarci per valorizzare il contenuto delle vietti terzi e delle associazioni presenti sul territorio di valorizzarle e alcune di queste sono già state convocate bene ecco consigliere l'omito dell'eventuale e la replica se non vi chiedo se è soddisfatto dell'intervento o no sì delito la replica ma perché mi ricordo soddisfatto della risposta che ho sentito non tanto nei termini che vabbè non voglio discutere ma proprio per le esattività della spiegazione passiamo a trattare quindi l'undicesimo punto dell'ordine del giorno interrogazione presentata dal consigliere comunale 925 stelle pagnano l'omito in parte l'omito in data 15 maggio 2020 protocollo comunale numero 83 63 avventato oggetto richiesta chiarire 20 h passo la parola consigliare da un'ivalta perché chiede tutta l'interrogazione richiesta chiarimenti h premesso che si è riunita l'assemblea dei soci h in un'assemblea ordinale per decidere su una proposta di delivera aventi oggetto approvazione dell'aggiornamento del piano economico finanziario 2020 2027 considerato che la deriva in questione si proponeva di approvare l'aggiornamento del piano economico finanziario 2020 2027 illustrato sinteticamente nel documento presentato ai soci e conferendo contestuale mandato al consiglio di amministrazione di dare attuazioni dare mandato all'ordano amministrativo di attuare una sollecita interlocuzione in prima istanza con i comuni di Bustosizio oltre che con altri soci nonché con i soggetti pubblici ritenutili che vi ha lo scopo al fine di proporre ai soci la progettazione e lo sviluppo di nuove attività e servizi in funzione delle migliori tecnologie disponibili implementando progetti innovativi già negli anni che precedono il 2027 il tutto in un quadro che preveda l'autonomia finanziaria della società permettendole di affrontare autonomamente i necessari investimenti rilevato che in atti del 2019 parrebbero essere ancora non ufficiali ma previsionali nonostante il 2019 si sia chiuso da mesi tutti i valori percentuali di 2020 verso il 2019 sono ipotetici e suscettivi di disvaliazione sarebbe forse più corretto chiudere il bilancio prima e poi approvare al business per il pluriennale si interroga il sindaco per conoscere se il nostro regolamento di contabilità consente in certe casistiche rilascia di chi dei modi essendosi accam allontanata da ciò che era il suo ruolo dovrebbe poter offrire un servizio regolato per i suoi comuni soci ha senso porre a votazione un piano internazionale che a tutto pensa qualche avvantaggio per i propri soci puntando sull'aumento di faturare ma dicendo richiuti speciali non essendo più ACAM una società in auto e percepito che il suo futuro è sempre più indirizzato da una gestione privata e non pubblica il nostro comune ha intenzione di vendere e non vendere le proprie quote per il prossimo futuro questo comune deciderà di conferire ancora di tutti gli incenditori di Borsano o si cercheranno alternative a prezzi più vantaggiosi Pagliano Roma si è imposta per esigere un piano solido e scenari seri non basati su supposizioni a lungo termine come paga essere un nuovo piano industriale di ACAM visto che negli ultimi sei anni è stata decisa e fu scattata l'ipotesi di una chiusura di un impianto vetro solito e dannoso per la salute più volte e che fare si vada verso l'idea di tenere in considerazione che esclusivamente interessi economici a riscapito della salute dei cittadini come si pone il nostro comune rispetto alla possibilità di ulteriori investimenti per un'azienda che tra qualche anno non farà più parte dei nostri progetti anche qui è un'interrogazione che ha una data diversa da quella di oggi comunque se possibile è un'interrogazione Sì, grazie Allora alla prima domanda per conoscere se il nostro demometro di contabilità mi senti e le lascio le previsioni l'articolo 127 del demometro di contabilità comuni con il comune con il rilasciare a mezzo di dedicazione consigliare garanzetti degli usori e per la soluzione degli intuoli per altre condizioni di individuamento destinati ad investimenti di interesse pubblico da parte di aziende speciali anche consortivi di istituzioni da essi dipendenti e società di capitali di cui esogio La seconda domanda riguarda se ha senso o la votazione di un'interrogazione adesso io comunque rispondo però questa domanda dovrebbe essere più rivolta ad Acamo che diciamo ai sindaci comunque l'assimunea si è svolta il 6 maggio Accam i soci hanno lavorato per il 68% il piano industriale il comune di Fagliama come l'ha stato anticipato anche in un incontro se si ricorda considera via 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 zoom comunque con videochiamata il comune di Fagliama ora si è aspenuto il piano industriale comunque passato con una richiesta di modifica da parte di diversi comuni per cui è stata inserita l'indicazione che le riduzioni dovevano passare in consiglio comunale ma per il nostro regolamento già così deve essere quindi noi comunque io comunque mi sono aspenuta proprio per una questione anche di sia di diciamo approfondimento del piano industriale ma soprattutto per la questione che sul futuro di atta non dobbiamo ottenere decisioni in consiglio comunale e in modo condiviso come abbiamo sempre detto anche nelle ultime riunioni poi non essendo più in atta ma appunto società non si è percepito che il suo futuro è sempre più utilizzato a gestione privata il comune ha intenzione di vendere o non svedere anche in questo caso mi rispondo che i passaggi verranno fatti in un consiglio comunale sulla base di valutazioni che anche la società farà e che ci renderà che appunto ci renderà loro nelle prossime assemblee anche sulle altre risposte mi sento di rispondere allo stesso modo il comune di Fagnano ha votato si è astenuto proprio per mantenere l'indicazione che si dovrà fare una scelta anche sulla base del cambiamento del fatto che in sostanza non siamo più in house anche se per diversi anni in precedenza effettivamente non si era stato per quanto riguarda invece la questione della chiusura del impianto è stato ribadito più volte la chiusura del impianto nel 2027 questo significa chiusura del impianto non chiusura di acme che sono due cose diverse comunque è stato ribadito la chiusura del impianto nel 2027 prego consigliere Loni sì allora dichiarandomi parzialmente soddisfatto vado a schierare mi fa piacere che il sindaco ribadisse che tutte le decisioni comunque le decisioni debbano passare dal consiglio comunale la mia voleva essere anche una richiesta di quale sia la posizione della maggioranza chiaramente perché è chiaro che passerà dal consiglio comunale ma è anche altrettanto chiaro che la maggioranza volete o non ne fa la favore un consiglio comunale quindi era più avere un'idea del pensiero che possa avere la maggioranza rispetto a tutta questa questione giustamente poi passerà dal consiglio comunale e uno farà le sue proprie valutazioni ma la mia richiesta è un po' più anche come maggioranza stiamo facendo delle valutazioni perché la questione è molto complessa e anche abbiamo parlato con il segretario comunale dobbiamo fare degli approfondimenti che non siamo in grado anche di fare diciamo in modo veloce quindi dobbiamo fare degli approfondimenti anche giuridici per avere tutte le basi e tutti i elementi per avere una decisione bene passiamo a trattare quindi il dodicesimo puntato ordine del giorno interrogazione presentata dal capo gruppo consigliere solidarietà e progresso pagnano a buone comune signor paolo di valutazione dal 18 giugno 2020 d'accordo comunale numero 10 di 315 in mente richieste di evito da parte di cittadini a seguito pandemina passo la parola al consigliere capresso che ha la intervista allora il gruppo consigliere solidarietà guardano l'intera cittadinanza visto il periodo storico che la comunità sta attraversando a seguito della pandemia e le conseguenze che la stessa sta provocando chiede al sindaco e al sessore competente 1 quante famiglie sono oggi in difficoltà e hanno chiesto contributi oltre a quelle già seguite dall'ufficio servizi sociali come è intervenuto il comune e con quali fondi e con che fondi qual è stato il pentelio con il quale questi fondi sono stati distribuiti e il numero delle famiglie e persone raggiunte da e raggiunte l'importo i fondi stanziati talcomune sono stati sufficienti in tutto il periodo della cosiddetta fase del nostro sino ad oggi l'amministrazione ha finanziato il capitolo di spesa per gli aiuti in qualche modo se sì con quali gli importi a quanto ammonta l'importo del racconto del conto corrente della Prociva e come sono stati utilizzati questi fondi e come si intende impiegare per il futuro sono pervenute richieste dirette da parte di famiglie inerenti alle problematiche legate al collegamento degli alunni alla lezione online e se sì è monitorata la situazione mediante un tavolo tecnico con l'istituto comprensivo se sono stati effettuati e pianificati interventi di qualsiasi genere e tipo all'interno di stabili e a destinazione scolastica e sportiva durante il periodo di chiusura forzata e se sì e se al momento sono in cantiere interventi mirati all'adeguamento delle strutture sopra città per il mese di settembre se è stato effettuato o previsto un incontro con l'associazione negozianti fagnonesi al fine di poter ascoltare eventuali richieste e finalizzare nella riapertura degli esercizi sopportandoli anche economicamente se fosse il caso esempio contributi di storno per Tavi assegnazioni a spazi pubblici per l'appiamento di superficie a TOSAP zero eccetera l'ultimo punto se alla luce di una serie di problematiche inerenti alla situazione economica e sociale del paese non sia nel caso di creare appositi capitoli di spesa al fine di poter confluire fondi necessari e finanziare le opere iniziative forniture eccetera finalizzate a quanto indicato nella presente interlocazione da la parola la sessore portati e la risposta allora cerco di inquadrare in una maniera più chiara possibile i punti di mia competenza effettivamente alcune domande non mi erano chiarissime nel senso che non sono precisissime e quindi quando si dice quante famiglie sono oggi in difficoltà hanno chiesto contributi cosa si intende per difficoltà secondo quali pagate hanno chiesto contributi avendone diritto non avendone diritto cioè in realtà la domanda può essere io cerco di dare risposte quante in generale hanno chiesto al comune formalmente un aiuto economico mi sembra chiaro no non è chiaro nel senso che non è un dato rilevante io cerco di rispondere se vuole la chiarezza in questo momento quante persone hanno chiesto aiuto in questo momento al comune di Fagnana o Roma è inutile andare avanti in questo modo io uso la risposta nella maniera più chiara possibile allora se parliamo di quante persone hanno chiesto il contributo voucher alimentare la risposta è stata data prima 245 persone 245 nuclei in realtà anche in questo caso come è intervenuto il comune con che fondi se paghiamo delle richieste codificate come richieste alimentari paghiamo di 80.900 euro con che fondi questi 80.900 euro sono in realtà alimentati in questo modo 66.258 di Euro 95 sono i famosi fondi che va a seguito dell'ordinanza 658 perciò arrivati di marzo altri 6.000 euro derivano dal capitolo contributi sociali generici perciò messi dai comuni il capitolo di calado è anche stato rintegrato 5.000 euro derivano dal conto corrente predisposto per recettire quali nazioni da parte anche della cittadinanza opzione appunto sicropetista dall'ordinanza della protezione civile 658 in più comunque si è vantaggiato in una convenzione particolare con Tigros che ricavano esercenti con i quali si poteva sostendere i buoni e in questa convenzione Tigros ci riconosceva il 15% dei buoni spesi quindi i valori di quei buoni quindi va a sua volta in realtà incrementato del 15% e quindi il Comune ha visto la somma totale messa a disposizione per caso di cui i buoni fossero stati spesi da Tigros ha visto quella somma di incrementarsi del 15% grazie a delle tessere sostanzialmente scurto viceviste per essere poi impiegate per la stessa finalità sociale a quanto ammonte l'importo per conto sul mondo della protezione civile l'ultimo dato che finiva disponibile è 5.970 euro quindi di cui però 5.000 già impegnati per dare risposta alle richieste dei voucher alimentari questo è quello che intercetta i voucher poi anche tipologie di richieste allora la persona che riuscasse alla porta un grido d'aiuto grazie al cielo nessuna altre cose codificate come richieste non ci viene niente la misura unica cioè l'esigenza abitativa sostanzialmente sull'esigenza abitativa che però è qualcosa che non è gestito direttamente dal comune ma che come detto prima è una situazione nella quale il comune si avvantaggia dell'azienda consultiva le domande su Pagnolo Roma sono 284 che però poi devono in qualche modo essere valutati in base e visibile già non è detto che contenendono apporte se prendiamo come rispegnamento numerico queste 284 parliamo del 5% di bisogno che sembra un dato alto ma è un dato fluido nel senso che queste richieste arrivano da fine aprile ad oggi e arrivano da persone che la cui necessità viene appunto l'effigna fluida in quanto legata ad esempio alle risposte che avevano sull'internix per esempio perciò nel momento in cui non mi arriva la cassa integrazione io ho necessità che qualcuno mi aiuti a pagare l'attito nel momento in cui l'accia effettivamente la cassa integrazione in quel bisogno riempa quindi il 25% ci sono le tante situazioni che in realtà sono assolutamente evitati i fondi disponibili per questa tipologia di assistenza perciò parliamo della questione abitativa sono considerati tutti i fondi di disposizione più di 360.000 euro per tutto l'ambito di Valle sono fondi stanziati dal comune direttamente indirettamente diciamo che Paglianorone e Castellanza hanno contribuito a questo fondo che va a verificio di tutti i comuni dell'ambito di Castellanza sono fondi che in buona parte rinvano da Paglianorone e Castellanza proprio perché diversi anni fa erano stati riconosciuti come comuni ad alta attenzione abitativa perciò avevano ricevuto fondi però in realtà all'epoca era difficile spendere in questa modalità intorno ad oggi invece con le difficoltà che si sono aggiunti a creare possono essere in questo modo un'altra questione che può forse rientrare appunto nella domanda chi è in difficoltà e ha chiesto contributi è forse quella delle bollette perciò la bolletta elettrica gas e idrica in questo caso ci sono i bonus i gas di ruolo elettrico già regolamentati dall'area l'autorità di settore che di grado permettono questi bonus di intercettare di essere comuni di intercettare in situazioni di necessità anche che sono avvenute grazie a di essere progete inoltre è in studio una normativa a livello del Parlamento per far sì che dal primo gennaio questi bonus che al momento sono fu richiesta divengino automatici in questo il comune di Pagnanolona anche già avanti perché grazie a una comprensione con i CAF il comune di Pagnanolona ha fatto sì che chiunque avessi i visiti e i visi sotto soia usurvisse diversamente di questi bonus senza passare per una smontata conoscenza da parte del soggetto altre questioni altre domande specifiche da parte della cittadinanza non sono state evidenziate da chi vi dovrebbe i servizi sociali in questo caso altri servizi che sono stati offerti sì ma forse risposto rispetto a quello che è una richiesta d'aiuto l'assistenza agli amicani per quello che riguarda la spese è andata avanti quindi come un'offerta questo servizio da dove c'è stata richiesta è stato erogato il servizio i passi e l'omicidio sono sempre stati garantiti quindi da dove c'è stata richiesta sono stati garantiti è stato grato un sportello per l'assistenza psicologica però in questo caso ha necessità di essere stata risposta quindi i numeri sono molteplici variegati comunque forse legati all'emergenza covid o non come dire identificali come legati all'emergenza covid come richiesto dall'interrogazione per questo è un po' difficile io cerco di fornire come dire un panorama di temi che possono essere probabilmente risposta a questa domanda dove è molto ampia nel senso che ci sono chiaramente tanti altri servizi mi scuso per questo tanti altri servizi che non è erogato prego consigliere Carlesi mi approconto che è un'interrogazione che comprende molti settori ma spero che vi rendete conto che non abbiamo avuto consigli comunali da lungo tempo e non abbiamo avuto modo fino adesso di portare interrogazioni ora nella prima parte delle interrogazioni le prime diciamo 5 domande erano riferite se era chiaro se il comune ha evaso tutte le richieste di aiuto buono di stesa in tutti i mesi di blocco la domanda sui buoni ambientali che dopo quella che non mi ha risposto è sulla scuola non mi ha risposto non mi ha risposto non mi ha risposto ma c'è non mi ha risposto prego no nel senso di poter interrompere perché poi si parliamo a tempo l'estero delle informazioni sui buoni ambientali sui buoni spesa sono già stati comunque che avevo fornito nella riposta precedente appunto sono ad aborge introducendo anche altre misure perché non mi ha interrotto che ho appunto quindi non si cita da nessuna parte la specifica misura dei buoni spesa si citano in generale le difficoltà e le difficoltà sugli altri punti non ho risposto perché in realtà non sono di mia competenza risponderanno altri assessori quindi sono state in base tutte e tutti i mesi si è quello che ho risposto anche alla interrogazione precedente tutte le domande tutte le richieste sono state esaurite e esaurite per rispondi ok si chiede a me se dov'era di essere soddisfatto tutte le risposte che ha ricevuto come posso essere soddisfatto se ci sono altre risposte da dare e allora di prego allora assessore roda se per quanto riguarda appunto ci sono stati di quanti che hanno indicato i perventi all'interno di stati che non sono sovrapposti sportiva allora scusate ma c'è abbiamo un punto sul sul seguire le lezioni online ok allora allora assessore corio allora per quanto riguarda il problema che si risolve durante il periodo di data preventiato il comune con la diligenza scolastica tavola aperta sempre disponibile quindi è un continuo flusso di informazioni non solo per cui si risolve titolari posso raggiungere un particolare che durante le lezioni che avvenivano con le varie classi sia per i versi che per i rodari si capitava qualche comportamento di connessione in un risotto in breve quindi non ci sono state a tante le lezioni che avvenivano con la problematica legata con le lezioni o la possibilità del mezzo che proprio si connessce il problema che è il monitoraggio degli alunni partecipanti alle lezioni o con la possibilità di partecipare delle lezioni online quindi richieste di attrazzatura tecnica e di collegamenti ad hoc per fare la possibilità di lezioni non diciamo che mi scontagnerò a tutta le famiglie non è pervenuta le richieste di aiuto non ovviamente è chiaro però la dirigenza quindi in questo caso la nostra dirigenza scolastica di per sé ha chiesto e ha acquistato questi non quindi è stata questa è la scuola sì si 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 ma proprio date la scuola ok perfetto e comunque tutte procedute in maniera regolare ok poi adesso c'è il punto appunto prego grazie per quanto riguarda gli interventi sui scolastici sportivi dal punto di vista così delle normative di alleguamento non c'era una grandissima carezza però comunque di unione la missione si è portata avanti perché c'è stata una rispettività attraverso un bando e quindi ci siamo ci siamo accreditati presso il ministero della pubblica istruzione e proprio oggi c'è stato comunicato che ci hanno accreditato 40 mila di euro di oggi per quanto riguarda gli interventi sui discolastici adesso andremo a pianificare studiare approcita insomma per altre domande da padre c'è il punto 9 allora io sono stata da quando i miei negozi sono stato diretti sono stato postato in contatto con le investimenti dell'associazione negozianti italianesi non sono arrivati in particolare le richieste abbiamo dato comunicazione di quello che stavamo facendo se ci stavano comunque degli aggiornamenti sono d'accordo con Patrizia Colomio di tenere costantemente di dare costantemente gli aggiornamenti e abbiamo per esempio anche il collettivo al di là degli investimenti economici abbiamo per esempio colpito solo l'apertura dei negozi anche il mercolio di sera perché questo è un passaggio in più che va in là dell'aiuto diciamo economico finanziario ma è un segnale di apertura di contatto con il canale di contatto sì ho risposto che siamo stati abbiamo tutti i passaggi che sono stati fatti fino adesso sono stati comunicati la cosa è comunque sospesa per l'evento fino a fine ottobre noi abbiamo fatto la parte per il mercato e sui natali l'ha risposto prima all'assessore che stiamo facendo delle verifiche ci sono altre domande che io sono soddisfatto io che le risposte c'è l'ultimo punto sul capitato di spesa ne avete già fatto uno su i capitoli di spesa legato alla gestione dei centri stili sui capitoli di spesa ovvero riduzione tali riduzione totop e riduzione come come peraltro è già previsto in numerosi altri comuni uno da tutti il comune di gusto è proposta dal consigliere riduzioni approvato a meno di da tutto il consiglio comunale di questa città sì come ha detto il sindaco e come avevamo già anticipato in punto precedente stiamo lavorando sul discorso dell'ataria abbiamo fatto una proiezione con GES sullo sconto sia sulla parte di se che sulla parte di viaggio intorno al 25% si fa da circa 110 mila euro sono valutazioni che andremo a fare nei prossimi giorni per andare a rispondere poi alla sala nazionale scusi se la disponibilità da per la presenza dopo noi stiamo adesso verificando quali sono i momentari e diciamo le scelte da seguire che seguiremo poi come tecnicamente se parlo con un capitolo di spesa o in che modo adesso ho scelto in qualche anno insomma però le aree di intervento su cui stiamo rormando sono gli attari e la volontazione bene consiglieremo che sono soddisfatto per alcune risposte altre sono state abbastanza rapunose quello che accumono tutti è che comunque nel periodo covid non c'è stato un impegno ma più avrai l'euro finanziario a parte di 70 mili 70 mili di 30 mili accorrogati per la 50 mili siamo a solo questa interrogazione siamo a 21 minuti e chiedo soltanto collaborazione ok ok prego posso inerente all'interrogazione da ora è inerente all'organizzazione ok perché c'è se in un'interrogazione ci sono ci sono più interlocutori per l'interrogazione ci si organizza intervindono prima interlocutori ma io volevo proporre un'altra cosa volevo proporre un'altra cosa invece non volevo creare fuori lì assolutamente non c'è l'idea di l'idea non c'è l'idea nemmeno fatte altre tante in passato però io regolamento l'interrogazione comunale prevede che le interrogazioni siano messe nell'iscritto e soprattutto dove ci sono vari punti anche per rispetto di tutti gli altri gruppi costitiali possibilmente vengono fatti del iscritto e entro dieci giorni verranno e la ora di libera l'ananas io capisco la licenza può essere la prima volta che il presidente del consiglio venga a dire una cosa del genere quando vi danno le interrogazioni ci sono i carri vengono dati i carri prendete i carri date le risposte non è possibile dire le le interlocazioni per risposta scritta ma se si si c'è il senso di ciò che voglio dire consigliere a paura non ha capito il senso che c'è che voglio dire la solita presa del cubo ok io te le avanti perché sennò il tempo continua ad andare le vite siamo viti a trattare il tredicentimo punto all'ordine del giorno interventione stessa ha voluto consigliare servire del progresso facciamo delle comune e fa lo che è messo in dato di 10.216 mesi necessari aggiornamenti sull'ultato delle opere pubbliche do la parola a consigliere Gabrielli grazie mille considerate che il gruppo consigliare servire da progresso dall'inizio del mandato di questa amministrazione chiede e sollecita una serie di lavori pubblici impostati dalla procedente amministrazione considerato che a seguito dell'impasto di giunta è stato nominato il nuovo assessore di giugnia nota al quale diamo benvenuto e auguriamo un buon lavoro tutto ciò premesso si chiede a sindaco l'assessore competente tempistica delle seguenti opere allora realizzazione realizzazione della nuova palestra di via benegoni data di inizio campiere e dalla interna dei lavori numero due adeguamento del palamarino usato all'inizio cantiere e termine delle opere se è possibile aggiungo questa cosa anche l'importo delle opere anche per il primo punto punto tre iter in progettazione della cronica di labica a seguito del tavolo tecnico svolto nel mese di marco di ovviamente e delle osservazioni della sovrintendenza dentro al progetto presentato si chiede se l'amministrazione intende ancora realizzare l'opera e se si quali sono i eventi di presentazione di un qualsiasi grado in progetto conforme al codice affatti numero quattro riqualificazione dell'invenzione pubblica a red data di inizio delle opere numero cinque anche punto è la riqualificazione tecnica degli edifici pubblici tempistica di realizzazione di tutte le opere punto sei quando partiranno le elaborazioni previste nella convenzione con il gruppo il gigante numero sette quando parliamo delle elaborazioni di modifica di qualificazione della via montello legata al piano di recupero e in linea nuova prego grazie sorello grazie presidente stavo controlando un attimo il discorso degli importi lavori ma non mi ricordo esattamente l'importo lavori della nuova palestra credo che fosse intorno al milione di euro poi c'erano 10% di ripasso d'asta e un 10% di orie perché la di agar credo che sia stata fatta offerta giudicate come economica più mediente per cui non è mai sento meno su questo ovviamente troppo da memoria mentre quanto riguarda l'importo lavori del panamarino se non pagano se mi trova il 100 mila euro mi pare di ricordare il 100 mila euro non sono sicurissimo non ho qua adesso la documentazione però vi posso dire che gli inizi di lavoro in termini di risolvere allora la paghezza di di regoni è pre allora la comunicazione della consegna del cantiere è il 6 di luglio quindi lunedì prossimo è prevista la consegna del cantiere la durata quindi parte di lavori servizi il 6 di luglio è prevista la consegna del cantiere dal 6 di luglio scappano 245 giorni di contratto per i termini dei lavori che è il suo voto che il diciamo tutti i documenti contrattuali sono pre-covid e quindi ci sarà una sicurata valutare un discorso in termini di tempistica si chiamano costi allora in termini di costi come lei ovviamente sa c'è un discorso relativo ai costi della sicurezza che sicuramente sarà l'assuntare l'impresa si è fatta avanti anche chiedendo diciamo una rivisitazione di alcuni prezzi ma su questo d'accordo anche con la direzione della moment non abbiamo visto margini dal nostro punto di vista perché possa essere accorto un'archezza di questo genere quindi il concorso della sicurezza credo che comunque qualcosa sarà da riconoscere quindi c'è in corso di elaborazione un aggiornamento del conflitto medico relativo ai subocorti d'escurezza da parte dell'abitazione che è da voi appena adesso sarò in grado di quindi il 6 luglio parte il 6 luglio consegna del campione perfetto il punto il punto 2 quindi allora per quanto va dal punto 2 la gara su portale sintel era per il 29 di giugno quindi adesso ci sarà tutto il discorso aggiudicazione consegna il lavoro prevista dovrebbe essere intorno ai 60 giorni quindi una volta assegnati dovremmo essere necessità mi ha cambiato il progetto perché il finanziato il capitolo di finanziamento dell'anno è di 50 anni a me scusate quel capitolo era per l'adeguamento dei bagni degli impogliatori non era per questa destinazione il progetto e il finanziamento sono stati esposti nelle commissioni il progetto è stato spiegato esattivamente nell'ultima commissione allora scusate a me io non so che quante varianti possono essere intervenute nei singoli progetti allora io sono assessore del premio di giugno la dottoressa del premio di maggio io del premio di giugno allora io ho in mano questo progetto questo progetto dal mio punto di vista sono circa 100 mila euro la gara è stata affettuata anche in questo modo è stata incontrata anche c'è stato un incontro anche con la società sportiva che andrà poi a utilizzare gli spazi eccetera eccetera mi sembrava soddisfatta di quelle che erano i lavori per listi e quindi per me è fatto tanto così cioè non ho altro per raggiungere ecco ok come sulla parola rispondo io allora per quanto riguarda per tavolo tecnico di maggio la intende le due commissioni con tutte ok allora stiamo certamente andando avanti domani ci sarà un incontro con il gioco culturale alla luce di una comunicazione di Regione Lombardia di qualche giorno fa per cui i piani della cultura hanno visto la porga nei termini alla fine di dicembre Regione ci ha comunicato che sono stati ammessi a una notazione di 57 anni integrati della cultura e iniziata questa produzione con i 53 e il capofila tra cui il comune di Pagliano il termine appunto è stato e se lo è stato prorogato faremo valutazioni per quanto riguarda sia il progetto culturale sia il progetto strutturale anche la luce come lei ha indicato come comunque abbiamo indicato in commissione alla luce delle osservazioni della sovrintendenza tempi di presentazione di un qualsiasi grado di progetto conforme a codice parte che lo valuteremo a dicembre il contatto è in fase ormai di definizione e elaborazione i contatti con l'azienda sono in corso probabilmente siamo abbiamo fatto quella valutazione l'ultimo aggiornamento per quanto riguarda l'organizzazione del campo di calcetto al campo sportivo probabilmente anticiperemo qualcosa noi a livello di attraversamento delle linee perché per l'organizzazione per anticipare anche lì a me possiamo andare a 40.000 o 50.000 ora probabilmente abbiamo previsto in variante 70 anni quindi io mi riferisco ai dati di lo io tra quanto la politica se c'è il progetto dell'invarianza idraulica ci sono altre domande che sono 25 6 7 di qualificazione termine il contratto è stato firmato il 23 di giugno giugno adesso metterebbero funzionamento verranno seguiti tutti i lavori sostanziali a questo quindi non c'è una testina di per iniziare in 3 giugno allora questo era già ciao comunque è stato firmato 23 di giugno una settimana fa quindi i lavori vengono realizzati in conseguenza ok il gigante si risponderia allora l'8 giugno è stata presentata la scia per la realizzazione dell'ambiamento della scuola di via di sia la convenzione è stata stipulata l'11 maggio abbiamo contato il consiglio di progettista è stata individuata l'impresa costruttrice di competenza appunto dell'agigianza del compitente inizia l'amore possibile il 31esimo giorno dalla scia quindi dal 9 luglio per quanti va la messa le altre ore quindi il parcheggio su all'interno con la viabilità di Vittorio Emanuele nelle vengibili che ha avuto con un progettista sicuramente si dovrebbero farsi in concomitanza con di lavoro della struttura commerciale e le opere afferenti quindi vista ma certe di viabilità auton su via regnano della mia segnale di segnale attraverso 8 giugno e la attraverso di istruttore deve tener conto oltre della votazione sugli esecutivi dell'opera di qualizzazione dell'assetto viabilistico anche di istruttore dell'autorizzazione commerciale che vede la trasmissione ad AFA e ATS verrà rilasciato a polizia locale per costruire l'autorizzazione commerciale di un unico procedimento tra luglio e agosto nelle previsioni quindi la prima opera a partire sarà la mezza l'ultimo punto è sempre io allora l'ultima raggiande è stata autotata il 20 aprile pubblicata per le osservazioni fino al 28 maggio martedì 22 maggio sono state esaminate dalla posizione le due dalla posizione impagnistica le due osservazioni pervenute giovedì potremo in punta la provazione definitiva della variante che le due osservazioni sono state riscritte le due variante in giunta porteremo appunto la lavorazione definitiva a livello sperimentale ci sarà il nuovo assetto delle entrate e delle uscite in diamo per paccheggi dottori quindi dopo l'attorazione di giovedì in giunta si procederà con i lavori con appunto la con di privati e faremo la ordinanza con la polizia locale invece che alla viabilità sperimentale in questi giorni invece il privato sta facendo lavori su via 25 aprile no 25 luglio scusa 25 luglio stanno facendo marciapiede marciapiede privata non stara stanno facendo il lavoro su marciapiede privata sì anche quello però era oggetto della diciamo della sistemazione generale beh adesso devo chiedere se è soddisfatto dei ultimi ma la mia vita quante pensi non come parlate all'interno dell'interrogazione questa domanda se no devo chiedere di riporturarla e poi devo chiedere il discorso no nel senso che a due anni a procedura se c'è che ha messo gentilmente devo chiedere se è soddisfatto delle risorse delle interrogazioni che vi ha presentato parzialmente soddisfatto benissimo grazie allora stiamo quindi a trattare il quattro e diecettimo punto d'ordine del giorno interrogazione consigliare di vedere da un punto consigliare di vedere il progresso andiamo per il comune il progresso donale numero dieci viga più di 2007 in merito di opere pubbliche si intende a creazione con i fondi regionali la parola che ha preso paura che ci viene a te di interrogazione prego consigliare considerato che la regione non va via ha messo a disposizione del comune di panellano luna 500 mila euro per finanziare le opere pubbliche con le seguenti finalità a sviluppo del carriere sostenibile b efficientamento energetico c rafforzamento delle strutture indispensabili alla connessione di internet il gruppo consigliare solidarietà con il comune che ha partecipato con la partecipazione del capiluppo tenutasi lo scorso marzo non ha mancato in quella come in altre occasioni di dare il proprio apporto il proprio fattivo conveduto tutto ciò premesso si chiede al sindaco e al sessore quale opere l'amministrazione in delle finanziarie e quale attivenza queste opere hanno con la finalità dei fondi messi a disposizione da regione lo parliate quale finalità queste opere avranno per fare una l'ora si chiede inoltre nel dettaglio il corso di ogni opera che si intende finanziare prego assistere rosa della risposta grazie dunque la mostrazione per l'utilizzata sono istruzioni per tre interventi ne abbiamo imparato anche in commissione il bilancio per quanto riguarda la pagliazione allora realizzazione infrastrutture diretti sul territorio dell'azione di zone wifi l'intervento sarà suddiviso in tre lotti 50.000 euro per la progettazione informatica e la posa degli apparati e il lavoro di attivazione della fibra ottica 50.000 euro per la progettazione informatica apposso apparati e la l'uomo di attivazione della fibra ottica diciamo la parte tecnologica 175.000 euro per il lavoro di prestazione delle linee principali usali e 45 mila euro per la produzione delle linee secondarie di wifi per un poco complessivo di 270.000 euro poi per quanto riguarda le piste ciclarie che è la seconda linea di intervento che abbiamo valutato abbiamo valutato gli interventi su via Cadorna con collegamento con via Piave fino al parchetto della Tama Cia e via De Anicis da via Mono fino all'area feste per una spesa di 180.000 euro e poi la rifturazione invece della sede della torsione civile con una relazione di luci di sicurezza con interventazione dell'area prodemessa dell'amico spogliatorio e dell'amico del cancello cacario 50.000 euro questa è l'articolazione degli interventi per quanto riguarda la finalità direi che il primo progetto che è diciamo fortemente sostenuto anche dalla regione è quello di implementare l'afforabilità da parte dei cittadini dei servizi rete wifi e qualunque altro per quanto riguarda il discorso delle piste ciclabili la finalità è quella di implementare collegandosi alla rete esistente con ulteriori tratti di collegamento delle piste ciclabili mentre poi per quanto riguarda invece il progetto dell'atteguamento dell'intervento specifico credo che fosse un progetto già sostanzialmente pronto si è trovato una linea di finanziamento e quindi a questo punto direi che è giusto utilizzare questo sono un po' le finalità posso? Prese tre considerazioni no no l'interrogazione non ha considerazione deve dire se adattare l'interiore o comunque riteneva soddisfatto meno delle risposte alle interrorezioni che ha avuto allora non sono soddisfatto che le ragioni sono queste allora le risultanze di quella di quella di non congiunta la politica urbanistica e capigruppo erano un altro delle altre cioè in quella in quella sede è stato chiesto non soltanto dai gruppi di minoranza ma anche dagli esponenti in commissione di gruppi di minoranza di lavorare su delle opere strategiche ovvero delle opere strategiche per Fania Roma ed è stato puntato tutto su edilizia scolastica e infrastrutture per l'edilizia scolastica quindi esempio per arrivare alle scuole o fare degli interventi migliorativi energetici sulle scuole l'installazione di pannelli sulle scuole da altre parti è stata fatta una richiesta per pensare sia delle commissioni wifi ma non con questo progetto questo progetto prevede come delle commissioni wifi a chi prevede che la rete sia gratuita che ci siano degli access point posizionati in punti strategici del territorio famenese prevede qualcosa di questo genere dove se si dove le piste scolabie su via danicis esiste una piste scolabie segnata si d'accordo ma è strategica quella è veramente strategica lo chiedo perché il comune di Pagnano non è dotato non ha un piano urbano del traffico aggiornato ed è quello che si sta chiedendo da non so quanti neve questa parte per tutta una serie di interventi necessari sulla viabilità del comune di Pagnano e questo non sta avvenendo non si è capito fino adesso non si è capito da un anno a questa parte che occorre questo piano un bando di pratico ve l'hanno chiesto persino gli alunni nel consiglio comunale dei ragazzi ve l'hanno chiesto a settembre e gli state dicendo no perché non state facendo delle opere strategiche tra loro non state facendo nulla a lì poi vi chiedo vi chiedo le critiche sono venute sono venute anche da esponenti della vostra stessa maggioranza in quella minione tanto è vero che l'assessore all'epoca Montrani si è voluto dimettere per quelle critiche e ora si riprende pari pari quello che ha detto ha proposto l'assessore Montrani in quella sede pari 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 quello che è stato proposto dall'assessore Montrani in quella sede c'è un'ultima cosa in quest'anno un anno di lavoro questa amministrazione non ha prodotto un solo progetto finanziante da portare in questa sede per essere finanziati per le fondi regionali quindi la mia risposta alla domanda è che sono insoddisfatto ok ok non è soddisfatto andiamo avanti allora con gli altri che lo vedi il giorno partiamo il quindicesimo punto all'ordine del giorno e ai sensi dell'articolo del momento comunale allora presentata sempre dal gruppo consigliare solidarietà e progresso pagnano bene comune il dato 18 giugno il protocollo comunale 10.219 mette alle eventuali proposte di detenzione di nuovo compresso prodotti industriali logistiche su area agricola al confine tra Pagnanova me che sono Pagnanova l'interversione organizzata dal gruppo consigliare di Sicilia Siamo Pagnano in data 18 giugno unitamenti sono lavoro comunale del mondo 10.227 riguardante un terreno vicino alla fine industriale do la parola al consigliare Gabrielli considerato che la società di Ostamoletti già alla fine del precedente mandato amministrativo avete appalesato l'intenzione di proporre un intervento di realizzazione di un polo logistico produttivo in un'area a destinazione agricola all'ospina al confine tra i comuni di Pagnanova e Cassano Magnanova considerato che anche all'inizio del mandato amministrativo della tua amministrazione comunale della stessa società ha riproposto l'intervento visto l'articolo del quotidiano a parte alfina del 29 maggio 2020 nel quale si riportava un incontro tra lo studio che sta seguendo l'istanza presentata in precedenza dalla società giusta e il comune tutto ciò premesso si chiede al singolo dell'assessore competente se i fatti importanti nell'articolo sono del 2 quando c'è stato l'incontro con lo studio che sta seguendo l'operazione 3 dove si è portato l'incontro 4 quali sono stati i partecipanti dell'incontro 5 quali sono stati contenuti dello stesso e a che fase dell'apportazione si è arrivati la parola al Consigliere Carles e al Consigliere Paolo Fiume che direttiva di la recensione grazie Presidente il gruppo consigliato di Sacilica siamo pagnati considerato che sul quotidiano la propria del 28 maggio 2020 e passa la notizia riguardata la presenza di alcuni investitori progettisti che hanno lo stato interesse per il terreno oggi lo schivo al confie non passano a maniato lo stesso terreno che lo scorso su progetto di l'interessamento dell'importante azienda di logistica appena insediata la sanistrazione per le contate con i trattori di allora con gli dettimenti l'operazione non ha un buon fine oggi vediamo conoscenza di questi nuovi interessamenti per questi motivi chiedi esiste realmente interessamenti per quell'area in caso di risposta premativa chi sono gli investitori progettisti che hanno stato interesse quali 10 sono da parte gli investitori grazie rispondo io allora se sono prima l'interessazione dell'assessore carlesso sei fatta ricordata allora l'articolo su di consigliere di consigliere di io l'articolo l'articolo che mi fa affrontare il mento è nel punto 8 maggio non so se lei ok perfetto allora sei infatti l'articolo ricordato sono 20 piedi nel senso che le condizioni che si erano regate dal passato sono usate e è vero anche il fatto che c'è stato un intervistamento in questo senso allora quando c'è stato un incontro con lo studio che sta seguendo l'operazione in realtà ci sono stati due incontri il primo il 26 maggio un incontro promosso dall'operatore erano presenti ero presente io l'architetto Palmieri Antonio Ferraro che è il presidente della giusta Rosetti l'imprendere Gianluca Quartola due esponenti italiani di società tedesca che fa cartone dell'arco group le società hanno proposto in quella data un intervento hanno proposto solo per l'alimenti in quella data un intervento simile a quello del passato con un'unica una variante riguardo la competenza logistica di giuste e di questa società che produce cartone si è ribadito da parte da parte nostra in questo incontro che lei chiede anche dove si svolga l'incontro nell'ufficio al primo piano in sala di junta si è ribadito sempre verbalmente nuovamente che un'unica strada stanno nelle condizioni di entità e collocazione dell'intervento sarebbe stata quella dell'apporto di programma come avevamo già invitato l'anno scorso come avevamo messo come avevamo invitato anche con una nota scritta del 18 giugno del 2019 stante stante appunto sia le indicazioni che erano arrivate sia dalla regione sia in Italia che all'intervento si parla di 100 mila metri in quadrati il secondo incontro è stato un successivo incontro richiesto sempre dalla società della giusta di giusta 16 giugno con i viventi ero presente sempre io l'altro detto parte che è il funzionario di urbanistica il vice sindaco mortas l'assessore ai lavori pubblici rosa il segretario comunale sia Antonio Ferrara che è l'amministratore unico di giusta rosetti l'ingegnere Gianluca Quattro la società ha proposto questo secondo incontro sempre verbalmente un intervento più limitato dimensionalmente parlando di un possibilitario tra i invece 25.000 ammetti quadrati quindi a decenza ha un intervento su Cassano credendo se il comune fosse comunque interessato noi abbiamo ribadito sulla società anche però ha espresso in l'incontro l'intenzione di comunque di procedere eventualmente anche su un intervento più esteso noi abbiamo chiesto alla società di formalizzare una proposta concreta prima di effettuare qualsiasi tipo di valutazione naturalmente e questo ho risposto quali sono stati i contenuti ho risposto diciamo alle sue cinque domande per quanto riguarda non so se consigliere la boffio no io già le risposte le risposte le mie domande sì allora esiste realmente il difensamento per quell'area esiste il caso di risposte a termattiva che sono investitori progettisti ho già risposto prima qua invece sono la parte degli investitori progettisti stiamo aspettando oltre al imposto che sono chiesto veramente tutta proposta di appoggi quale definitiva se vorranno portare avanti quest'idea e questo terreno sarà un gioco di modifica in termine della prossima per diante aggiunti in questo momento non possiamo prendere nessuna decisione vista visto che stiamo anche noi aspettando il progetto intervento di consigliere che ha perso e poi di intervento consigliere barocchio e poi migliorare se siete soddisfatti o non soddisfatti ok allora vi chiedo subito parzialmente soddisfatto parzialmente perché appunto attendiamo delle ricche successive io parzialmente soddisfatto e preoccupato primo perché lo studio è sotto le maitagini per tangenti per questioni gallarate della messa di poveri e quindi io questi eserenti insistiamo a un po' le pritennie per le idee per l'azate non vorrei che quel sistema che è stato indagato in quel territorio sia spostato e migrato di 7 km e la mia la mia preoccupazione è altissima su questo interesse si va a toccare male che potrebbe diventare un'area più grande industriale di tutta la provincia di Varese si va a creare un'industria che potrebbe essere creare un movimento di mezzi non poco differenti per il tipo di attività che si va a creare io vi dichiaro parzialmente di spazio ma sono molto preoccupato ok partiamo ora pertanto a trattare sedicesimo punto d'ordine del giorno interrogazione presentata al gruppo concetto di carità del progresso andiamo bene comune di carità del progresso del progresso del progresso primale 10 220 meglio la trasversazione tutta di ria stata voglio che è solo in periere sono rimasti i ultimi 10 minuti se la concludiamo prima dei 10 minuti passo alla successiva dove si conclude e basta iniziamo cercare di questo abbiamo iniziato a 25 e 50 e 50 e 25 ok come l'altra volta ho premesso che la regione non va via ha recentemente deliberato lo sanzianetto di 4 milioni e 300 mila euro per finanziare il completamento della cosiddetta presenza di Cassa Mariana considerato che il progetto iniziale ormai di 10 anni fa un documento evidentemente europeo tutto ciò premesso si chiede al sindaco l'assessore il comune in Pagnano è stato coinvolto in qualche modo nella definizione delle opere sta partecipando i tavoli tecnici a riguardo do la parola a Zinco come sarà la risposta ad oggi non siamo coinvolti nei tavoli tecnici ma ho 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 avuto le informazioni che ha avuto lei naturalmente in qualche regione perché all'inizio di giugno la delivio dello stanziamento in realtà nell'ultima giunta regionale si è votata l'ok alla convenzione del comune di Cassano lo stanziamento era un consiglio regionale del vicene nel 2018 comunque poi la giunta ha ceduto per portare avanti la convenzione del comune di Cassano il sindaco di Cassano avendo sentito in questi giorni anche per altri temi mi ha mi ha ribadito che non essendo il comune di Faianora per quest'altra non è diciamo coinvolto a livello territoriale ma sicuramente per alcuni sviluppi per quanto riguarda la il traffico pesante visto che la presentazione si tratterà sulla rotonda davanti a Fidos se ci saranno tavoli tecnici ci saremo assolutamente per molti il problema è che qui si concretizza la preoccupazione dell'euro che ho risposto poco fa cioè si sta facendo a mio avviso per quello che posso conoscere dell'urbanistica un po' allargata non soltanto a livello comunale un'infrastruttura del tutto inutile e un doppione di almeno tre altre infrastrutture cioè Pese Montana Strada Permalpensa è Altos Strada dei Dagi e peraltro la prosecuzione di questo opera era prevista nel progetto di allora tutto lo stavo vedendo la prosecuzione fino a ripassare il territorio afaniano che si è andata a collegarsi sulla strada per soldiare infrastruttura del tutto inutile e anche qui ci sono persone coinvolte nella amministra di bovelo bene se è soddisfatto delle risposte del zio no perché non c'è nessun interessamento non è neanche rimuato cioè c'è stato un interessamento posso dire parzialmente soddisfatto ma in realtà è un problema serio che coinvolge anche il comune di Pagnanolo ma su cui bisogna avere le idee che ha il suo anche il senso l'articolo bene ok allora passiamo al diciassettesimo punto dell'ordine del giorno ok e siccome sono un apportamento di due interrorezioni in essenzio artico 58 19 del Consiglio Comunale pertanto l'erogazione presentata dal gruppo Consigliere Sagittario del Progresso Pagnanolo Regione Comune signor Paolo Cardenas il dato 18 giugno protocollo comunale numero 10 231 in merito a 200 estili e interrogazione presentata dalla gruppo con di specifica Siamo Pagnanolo il dato 18 giugno 2020 protocollo comunale numero 10 235 riguardanti gli obiettivi l'organizzazione dell'implementazione e il contestuale impegno e risorse della realizzazione dei centri per i ragazzi spagnanesi della postulazione 2020 passo la parola al consigliere Carleso perché via 20 la sua interlocuzione interlocuzione del senso del senso dell'articolo 58 del Consiglio Comunale centri e il gruppo consigliare la solidarietà al progresso e la mia moglie in comune da sempre sensibile e attento alle questioni sociali che riguardano l'unità cittadina visto che è da tempo che segnala all'amministrazione comunale la problematica di organizzare centri attraverso richieste di comunicazione delle commissioni interdisciplinari per organizzare le problematiche attraverso articoli e attraverso specifiche richieste fatte durante l'ultimo consiglio comunale considerato che al momento della stagione del presentito interlocuzione con grado ritardo rispetto alle richieste pervenute da più parti e rispetto a quanto fatto nei comuni di Mito che il Comune di Pagliano Roma ha redatto una richiesta per concedere l'utilizzo di alcuni spazi delle scuole comunali tutto ciò permesso si chiede al signor dell'assessore competente in seguito al sondaggio esplorativo pubblicato in data 295 2.000 enti sul sito internet comunale quante famiglie si sono dichiarate potenzialmente interessate a di dei centri estivi per le famiglie che in assenza di centri estivi sul territorio hanno ormai scritto i propri titoli in altri centri già privati nei comuni di Mito centri parte dell'azienda consultiva Middollona è previsto un contenuto comunale sulla retta pagata e per le iscrizioni effettuate presso centri non riferite all'azienda consultiva e non accreditati se è prevista la stessa cosa durante l'incontro nel percorso ai primi di giugno agli assessori competenti che erano già sul peso come dichiarato l'assessore Montranzi e varie associazioni presenti sul nostro territorio alla fine di confrontarsi sulla possibilità di apertura dei centri estivi era stata già esposta la possibilità di utilizzo di spazi comuni così come così da considerare consentire all'associazione almeno una riflessione sui eventuali progetti prego consigliere che osservano le caratteristiche delle agenzie dei suoi forzamenti, chiedono indicazione passiva e puntuale delle scelte, obiettivi di breve, modalità di implementazione, risorse per richieste dialogate relative ad attività e rispetto, indicazioni e milestones di sostegno alla cittadinanza che fanno i riferimenti tra le scelte. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prego. Grazie a tutti. 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 I consigli, Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. qui. e a tutti. 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 e tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a 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 tutti. e 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 tutti.